ma io vi dico chiunque guarda una donna con concupiscenza in cor suo ha già commesso adulterio su di lei Matteo 5,28 i discepoli gli dicono se tale è la condizione dell'uomo rispetto alla moglie non conviene ammogliarsi ed egli disse loro non tutti ma coloro ai quali è stato concesso capiscono questo ci sono infatti degli eunuchi usciti tali dal seno della madre e ci sono degli eunuchi che sono stati evirati dagli uomini e ce ne sono di quelli che si sono evirati da sé in vista del regno dei cieli comprenda chi può Matteo 19,10,12 la primavera era all'inizio era il secondo giorno che viaggiavamo entravamo nel vagone e ne uscivamo persone che andavano a distanze diverse ma tre venivano come me dalla stazione di partenza del treno una signora non bella né giovane che fumava con un viso tormentato un palto semi maschile addosso e un berrettino un suo conoscente uomo sui 40 anni amante della conversazione con le sue cose tutte in ordine e nuove e ancora un signore di statura non molto alta con movimenti a scatti che stava per conto suo non vecchio ancora ma con i capelli ricci evidentemente incantiti prima del tempo e con degli occhi straordinariamente scintillanti che correvano rapidi da un oggetto all'altro era vestito di un vecchio palto col colletto d'agnello che veniva da un sarto di lusso e aveva un alto berretto d'agnello sotto il palto quando si sbottonava si vedeva un farsetto e una camicia ricamata alla russa una singolarità di questo signore consisteva inoltre nel fatto che di tanto in tanto egli emetteva degli strani suoni simili allo spurgarsi o a un riso cominciato e interrotto questo signore per tutto il tempo del viaggio aveva accuratamente evitato ogni rapporto e conoscenza con i viaggiatori ai vicini che attaccavano discorso rispondeva breve e tagliente o leggeva o fumava guardando dal finestrino o tratte fuori le provviste da una sua vecchia sacca beveva il tè o faceva uno spuntino mi sembrava che egli sentisse il peso della sua solitudine e varie volte avevo voluto mettermi a parlare con lui ma sempre quando i nostri occhi si incontravano e capitava spesso perché eravamo seduti di sbieco l'uno rispetto all'altro lui si voltava dall'altra e prendeva un libro o guardava dal finestrino durante la fermata che ci fu prima di sera il secondo giorno a una grossa stazione questo signore nervoso scese a prendere dell'acqua calda e si preparò il tè invece il signore con quelle cose in ordini e nuove un avvocato come poi seppi insieme con la sua vicina la signora che fumava col paltossimi maschile andarono a bere il tè dentro la stazione durante l'assenza di quel signore con la signora nel vagone entrarono alcune persone nuove tra cui un altro vecchio rasato tutto rughe che era evidentemente un mercante con una pelliccia di puzzola e un berretto di panno dalla visiera enorme il mercante si sedette di fronte al posto di quella signora e dell'avvocato e attaccò subito discorso con un giovanotto dall'aspetto di commesso che era salito pure lui a quella stazione io ero seduto di sbieco rispetto a loro e dato che il treno era fermo nei momenti in cui non passava nessuno potevo sentire a tratti la loro conversazione il mercante dal principio annunciò che si recava a una tenuta poco distante alla stazione seguente poi, come sempre si misero a parlare dapprima dei prezzi di commercio parlarono come sempre del traffico commerciale che c'è adesso a Mosca e poi si misero a parlare della fiera di Nizni Novgorod il commesso cominciò a raccontare delle baldorie che faceva alla fiera un ricchissimo mercante che tutte e due conoscevano ma il vecchio non lo lasciò finire e cominciò a raccontare lui delle passate baldorie a Cunavino alle quali aveva partecipato era evidente che andava orgoglioso della parte che vi aveva preso che raccontava con soddisfazione come con quel tale loro conoscente una volta ne avessero fatta una a Cunavino che andava raccontata sottovoce a sentir questo il commesso scoppiò a ridere in modo da farsi sentire da tutto il vagone e anche il vecchio rise mostrando due denti gialli non aspettandomi di sentire niente di interessante mi alzai per andare a passeggiare sulla banchina fino alla partenza del treno sulla porta mi incontrai con l'avvocato e la signora che camminando parlavano animatamente di qualcosa non farete in tempo mi disse il socievole avvocato sta per suonare il secondo campanello e davvero non avevo fatto in tempo ad arrivare in fondo ai vagoni cheicheggiò il campanello quando tornai fra la signora e l'avvocato continuava quell'animata conversazione il vecchio mercante sedeva in silenzio di fronte a loro guardando con severità davanti a sé e di tanto in tanto masticando con le labbra in atto di disapprovazione quindi lei dichiarò francamente al suo marito diceva sorridendo l'avvocato mentre io gli passavo accanto che non poteva e nemmeno desiderava stare con lui perché la proseguì a raccontare qualcosa che non potei capire dopo di me passarono altri viaggiatori passò il capotreno entrao di corsa un fattorino e per un certo tempo ci fu del chiasso per via del quale non si sentì la conversazione quando tutto si fu calmato e io sentì di nuovo la voce dell'avvocato la conversazione era evidentemente già passata dal caso particolare alle considerazioni generali l'avvocato diceva come la questione del divorzio occupasse ora l'opinione pubblica europea e come da noi si presentassero sempre più spesso casi analoghi avendo osservato che non si sentiva la sua voce l'avvocato interruppe il suo discorso e si rivolse al vecchio con tempo questo non accadeva non è vero disse sorridendo piacevolmente il vecchio voleva rispondere qualcosa ma in quel momento il treno si mosse e il vecchio togliendosi il berretto cominciò a farsi il segno della croce e a recitare sottovoce una preghiera l'avvocato distogliando gli occhi attendeva educatamente dopo aver finito la sua preghiera e il triplice segno della croce il vecchio si calzò ben dritto al berretto si rassettò al suo posto e cominciò a parlare accadeva anche prima signore solo più di rado disse ma ai tempi nostri non può non accadere ormai la gente si è fatta troppo istruita il treno andava sempre più in fretta rumoreggiava le giunture delle rotaie e mi era difficile sentire ma mi interessava e mi mise a sedere più vicino il mio vicino quel signore nervoso dagli occhi scintillanti si era evidentemente interessato anche lui e senza alzarsi dal suo posto ascoltava ma che c'è di male nell'istruzione disse la signora sorridendo appena percettibilmente possibile che sia meglio sposarsi come un tempo quando il fidanzato e la fidanzata non si erano neppure visti essa proseguì secondo l'abitudine di molte signore di rispondere non alle parole del proprio interlocutore ma alle parole che le parevano che egli avrebbe detto non sapevano se amavano se potevano amare e sposavano chi capitava e poi passavano tutta la vita nei tormenti sicché secondo voi è meglio essa diceva rivolgendo il discorso a me e all'avvocato ma meno che mai al vecchio col quale parlava ormai la gente si è fatta troppo istruita ripete il mercante guardando con disprezzo la signora e lasciando senza risposta la sua domanda sarebbe desiderabile sapere come spiegate il legame fra l'istruzione e la discordia nella vita matrimoniale disse l'avvocato sorridendo appena percettibilmente il mercante voleva dire qualcosa ma la signora lo interruppe no quel tempo è ormai passato disse ma l'avvocato la fermò no permettete al signore di esprimere la sua opinione le sciocchezze vengono dall'istruzione disse il vecchio con fare dissoluto fanno sposare della gente che non si ama e poi si stupiscono che non vivano d'accordo diceva frettolosamente la signora volgendosi a guardare l'avvocato e me e perfino il commesso che alzatosi dal suo posto e appoggiato alla spalliera prestava orecchio sorridendo alla conversazione perché sono soltanto gli animali che si possono accoppiare come vuole il padrone ma gli uomini hanno le loro inclinazioni i loro affetti diceva la signora evidentemente cercando di ferire il mercante fate male a dire così signora disse il vecchio gli animali sono bestie mentre all'uomo è stata data una legge ma come si fa a vivere con una persona quando l'amore non c'è diceva la signora sempre con la fretta di esprimere i suoi giudizi che probabilmente le sembravano molto nuovi prima di questo non si parlava disse il vecchio con tono autorevole è solo adesso che è venuto in uso appena capita qualcosa la moglie dice subito ti lascio i contadini perché dovrebbero farlo eppure anche tra loro è venuta la stessa moda to dicono eccoti le tue camicie e le tue mutande che io vado con vanca è più riccioluto di te spiegatela un po' voi invece nella donna ci deve essere in primo luogo il timore il commesso guardò l'avvocato e la signora e me evidentemente trattenendo un sorriso e pronto sia a canzonare che ad approvare il discorso del mercante a secondo del modo in cui sarebbe stato accolto e che timore mai disse la signora ecco quale che abbia paura di suo marito ecco che timore è eh padre mio è già passato quel tempo disse la signora perfino con una certa irritazione no signora quel tempo non può passare come è stata creata Eva la donna a una costola dell'uomo così rimarrà fino alla fine dei tempi disse il vecchio scuotendo il capo con aria così severa e trionfale che il commesso si immaginò subito che la vittoria fosse dalla parte del mercante e scoppiò a ridere forte ma siete voi altri uomini che ragionate così diceva la signora senza arrendersi e guardando noi vi siete dati la libertà ma la donna volete tenerla nel gineceo voi altri non c'è pericolo vi permettete tutto il permesso non lo dà nessuno ma il fatto è che l'uomo non fa entrare niente in casa mentre la donna la moglie è un recipiente fragile continuava a dire autorevolmente il mercato l'autorevolezza di intonazione del mercante stava evidentemente vincendo gli ascoltatori e perfino la signora si sentiva vinta ma continuava a non arrendersi prima credo che sarete d'accordo con me che la donna è un essere umano e ha dei sentimenti come l'uomo ebbene che cosa deve fare se non ama il marito non ama ripete con aria minacciosa il mercante muovendo le sopracciglie e le labbra non c'è pericolo lo amerà questo inatteso argomento piacque particolarmente al commesso e mise un suono d'approvazione ma no non l'amerà fece la signora e se l'amore non c'è non ci si può mica essere costretti ebbene se la moglie tradisce il marito allora come si fa disse l'avvocato questo non deve essere disse il mercante bisogna guardarci e se accade allora come si fa sono pur sempre cose che capitano c'è a chi succede ma a noi non succede disse il mercante tutti tacquero per un po' il commesso si mosse si avvicinò ancora e non volendo a quel che pareva rimanere indietro agli altri cominciò sorridendo sì signore ecco che anche uno dei nostri giovani ha avuto il suo scandalo anche lì è troppo difficile giudicare anche a lui è capitata una donna scostumata e cominciò a farne di tutti i colori eppure lui era un ragazzo serio e con una certa istruzione prima quel contabile il marito cercava di fargliela capire anche con le buone non mise giudizio faceva porcherie ad ogni sorta cominciò a rubargli i denari e lui la picchiava ebbene peggiorava sempre se la faceva con un miscredente un ebreo con licenza parlando lui che doveva fare la piantata del tutto e così vive scapolo e lei va a zonzo perché uno è stupido disse il vecchio se fin dal primo momento l'avesse tenuta a freno e l'avesse domata per davvero ci sarebbe stata non c'è pericolo è fin dal principio che non bisogna lasciar fare a modo proprio al cavallo non credere in campagna e alla donna quando è in casa intanto venne il capotreno a chiedere i biglietti per la prossima stazione il vecchio consegnò il suo biglietto sì signore il sesso femminile va domato in precedenza se no tutto è perduto e allora come mai proprio voi vi raccontavate orora come gli uomini sposati si divertivano alla fiera a cunavino disse io non potendomi più trattenere quello è un altro paio di maniche disse il mercante e si immerse nel silenzio quando eccheggiò il campanello il mercante si alzò trasse una sacca da sotto il sedile e chiuse la pelliccia sollevando il berretto uscì dalla piattaforma non appena andato via il vecchio si levò una conversazione a più voci il papà è del vecchio testamento disse il commesso è il domostro il personificato disse la signora che strana idea della donna e del matrimonio sì siamo ben lontani dalla concezione europea del matrimonio disse l'avvocato perché il punto principale quello che non capiscono le persone come quelle disse la signora è che il matrimonio senza amore non è un matrimonio e soltanto l'amore santifica il matrimonio e che è un vero matrimonio soltanto quello che l'amore santifica il commesso ascoltava e sorrideva col desiderio di ricordare il più che poteva di quei discorsi intelligenti per adoperarlo a metà della parlata della signora dietro di me si sentì come il suono di una risata interrotta o un ruggito e vedemmo il mio vicino il solitario signore canunto dagli occhi scintillanti il quale durante la conversazione che evidentemente l'aveva interessato si era avvicinato a noi senza che ce ne accorgessimo era in piedi con le mani appoggiate alla spalliera del sedile e visibilmente agitato il suo viso era rosso e sulla guancia gli tremava un muscolo qual è mai l'amore l'amore che santifica il matrimonio e gli disse esitando vedendo lo stato di agitazione dell'interlocutore la signora cercò di rispondere con la maggior dolcezza e precisione possibile il vero amore se questo amore c'è tra l'uomo e la donna è possibile anche il matrimonio disse la signora sì signora ma che cosa dobbiamo intendere come amore vero disse il signore dagli occhi scintillanti sorridendo goffamente e con timidezza ognuno sa che cos'è l'amore disse la signora desiderando evidentemente porre fine alla conversazione con lui e io non lo so disse quel signore bisogna definire ciò che intendete dire come è molto semplice disse la signora ma si fece pensosa l'amore è l'esclusiva preferenza di uno o di una persona rispetto a tutti gli altri essa disse preferenza per quanto tempo per un mese per due o per mezz'ora proferì il signore canuto e si invise a ridere no permettete è evidente che parlate di un'altra cosa no proprio di quello la signora dice intervenne l'avvocato indicando la signora che il matrimonio deve derivare innanzitutto da un affetto dall'amore se volete e se questo esiste solamente allora il matrimonio costituisce qualcosa diremo così di sacro e poi che ogni matrimonio che non abbia come suo fondamento gli affetti naturali l'amore se volete non racchiude in sé nulla di moralmente obbligatorio ho capito bene fece rivolgendosi alla signora la signora con un movimento del capo espresse l'approvazione al chiarimento del proprio pensiero dopodiché fece l'avvocato continuando il suo discorso ma il signore nervoso con gli occhi che adesso ardevano fiamme si tratteneva con evidente difficoltà e non lasciando parlare l'avvocato cominciò no parlo proprio di quello della preferenza di uno o di una rispetto a tutti gli altri ma domando soltanto questo preferenza per quanto tempo per quanto tempo per un pezzo per tutta la vita certe volte disse la signora alzando le spalle ma questo c'è solo nei romanzi e nella vita non c'è mai nella vita esiste questa preferenza di uno rispetto agli altri per anni che è un fatto molto raro più spesso per mesi o se no per settimane per giorni per ore e gli diceva sapendo evidentemente di stupire tutti con la sua opinione e soddisfatto di questo oh che dite ma no no permettete esclamammo tutti e tre a una voce perfino il commesso aveva dato fuori un suo suono indeterminato sì lo so rispondeva il signore canuto gridando più forte di noi voi parlate di quello che si ritiene che esiste e io parlo di quello che è ogni uomo prova ciò che voi chiamate amore per ogni bella donna ah quello che dite voi è orribile ma c'è pure tra gli uomini quel sentimento che si chiama amore e che è dato non per mesi e per anni ma per tutta la vita no non c'è anche ammettendo che l'uomo preferisca una certa donna per tutta la vita la donna secondo ogni probabilità ne preferirà un altro e così è sempre stato ed è tuttora al mondo e gli disse e tratto fuori il porta sigarette cominciò a fumare no non è possibile e gli ribatté allo stesso modo come non è possibile che in un carro di piselli due dati piselli vadano a cadere uno accanto all'altro e inoltre qui non c'è solo una probabilità c'è di sicuro la sazietà amare per tutta la vita una o uno è lo stesso che dire che una candela ha da ardere per tutta la vita e gli diceva aspirando avidamente il fumo ma voi non parlate che dell'amore carnale non ammettete forse l'amore fondato sulla concordanza di ideali sulla parentela spirituale disse la signora parentela spirituale concordanza di ideali e gli ripetè emettendo questo suono ma in tal caso è inutile dormire insieme scusate la volgarità se no la gente va a dormire insieme in seguito alla concordanza di ideali e gli disse e si mise a ridere nervosamente ma permettete disse l'avvocato i fatti contraddicono ciò che voi dite noi vediamo che le unioni coniugali esistono che l'umanità o gran parte di esse vive di vita coniugale e molti trascorrono onestamente una prolungata vita coniugale il signore canuto si mise di nuovo a ridere un po' dite che i matrimoni si fondano sull'amore ma quando io metto in dubbio l'esistenza dell'amore a parte quello sensuale voi mi dimostrate l'esistenza dell'amore con la circostanza che esistono i matrimoni ma i matrimoni al tempo nostro non sono che inganno oh signore permettete disse l'avvocato io dico soltanto che sono esistiti ed esistono i matrimoni esistono ma come mai esistono non esistiti ed esistono tra quelle persone che nel matrimonio vedono qualcosa di misterioso un mistero che vincola davanti a Dio tra quelle persone esistono ma tra noi no tra noi la gente si sposa non vedendo nulla nel matrimonio all'infuori dell'accoppiamento e ne risulta un inganno o una violenza quando è un inganno si sopporta facilmente il marito e la moglie non fanno che ingannare la gente con la loro monogamia ma vivono in poligamia in poliandria è male ma passi ancora ma quando come capita per lo più il marito e la moglie hanno assunto l'obbligo esteriore di stare insieme per tutta la vita e dopo un mese si odiano già desiderano dividersi e tuttavia vivono insieme allora ne risulta quell'inferno tremendo che induce le persone a darsi al bere a spararsi ad avvelenarsi da se stessi e tra loro che gli diceva sempre rapidamente senza permettere a nessuno di mettere bocca e accalorandosi di più tutti si sentivano a disagio sì senza dubbio capitano degli episodi critici nella vita coniugale disse l'avvocato cercando di far cessare una conversazione che si era disdicevolmente accalorata a quel che vedo avete capito chi sono disse piano e come tranquillamente il signore canto no non ho questo piacere il piacere non è grande sono potni chef quello a cui è capitato quell'episodio critico al quale alludete episodio di aver ucciso sua moglie e gli disse gettando un rapido sguardo a ciascuno di noi nessuno seppe trovare nulla da dire e tutti tacquero su è lo stesso e gli disse mettendo quel suono nel resto usatemi non voglio darvi noia ma no lasciate stare disse l'avvocato che non sapeva nemmeno lui perché ci fosse da lasciar stare ma posnicef senza dargli ascolto si volse in fretta e se ne andò al suo posto quel signore con la signora si parlavano sotto voce io ero seduto accanto a posnicef e tacevo non sapendo escogitare che cosa dire per leggere era troppo buio e perciò chiusi gli occhi e finsi di voler dormire così giungemmo in silenzio fino alla stazione seguente a questa stazione quel signore con la signora passarono in un altro vagone avendone parlato già prima al capotreno il commesso si accomodò sul sedile e si addormentò posnicef invece non faceva che fumare e bere il tè che si era preparato fin dall'altra stazione quando aprì gli occhi e lo guardai egli a un tratto si rivolse a me con risolutezza e irritazione vi dispiace forse stare qui con me sapendo chi sono allora me ne vado o no chiedite ebbene allora volete favorire solo che è forte e gli mi versò del tè parlano e sono tutte menzogne disse di che parlate chiesi io ma sempre della stessa cosa di quel loro amore e di che cos'è voi non avete sonno per niente allora volete che vi racconti come da quello stesso amore io sia stato condotto a ciò che mi è capitato sì se la cosa non vi riesce penosa no mi è penoso tacere ma bevete il tè o è troppo forte il tè era davvero come birra ma io ne bevi un bicchiere intanto passò il capotreno e gli lo seguì in silenzio con occhi irritati e cominciò soltanto quando l'altro se ne fu andato ebbene allora vi racconterò ma lo desiderate veramente? io ripetei che lo desideravo molto lui stette un po' zitto si passò le mani sul viso e cominciò e si racconta bisogna raccontare tutto dal principio bisogna raccontare come e perché mi sono ammogliato e come ero prima di ammogliarmi prima di ammogliarmi vivevo come vivono tutti cioè nel nostro ambiente io sono proprietario terriero e ho un diploma di studi universitari e sono stato maresciallo della nobiltà prima di ammogliarmi vivevo come vivono tutti cioè in modo depravato certo di vivere normalmente fra me credevo di essere un simpaticone di essere una persona pienamente morale non ero un seduttore non avevo gusti contro natura non ne facevo lo scopo principale della vita come facevano molti dei miei coetanei ma mi davo la depravazione con gravità con decenza per salute evitavo le donne che mettendo al mondo un bambino o affezionandosi a me avrebbero potuto costituire un legame per me del resto forse ci furono anche dei bambini ci furono degli affetti ma io facevo come se non ci fossero e questo appunto mi pareva non solo morale ma ne ero orgoglioso si fermò e mise quel suono come faceva sempre quando gli veniva un'idea evidentemente nuova perché in tutto questo appunto consiste la principale turpitudine e gli esclamò la depravazione non consiste mica in qualcosa di fisico perché nessuna indecenza fisica è depravazione ma la depravazione l'autentica depravazione consiste proprio nel liberarsi dai rapporti morali verso la donna con la quale entri il rapporto e di questa liberazione appunto io mi facevo un merito ricordo come mi tormentai una volta non avendo fatto in tempo a pagare una donna che mi si era data probabilmente perché l'ero piaciuto e mi tranquillizzai soltanto quando lei mi mandato i denari mostrando con ciò che moralmente non mi sentivo in nessun modo legato a lei non accennate col capo come se foste d'accordo con me fece ad un tratto redarguendomi perché io lo conosco questo trucco tutti noi e anche voi nel migliore dei casi se non siete una rara eccezione avete la medesima opinione che avevo io via e lo stesso perdonatemi e gli proseguì ma il fatto è che è orribile 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 che cosa è orribile chiese io l'abisso di aberrazione in cui ci troviamo riguardo alle donne e ai rapporti con loro sì signore non ne posso parlare con calma e non perché mi sia capitato quell'episodio come diceva quello ma perché da quando mi è capitato quell'episodio mi si sono aperti gli occhi e ho visto tutto in una luce interamente diversa tutto a rovescio accese una sigaretta e appoggiandosi con i gomiti alle ginocchia cominciò a parlare nell'oscurità non riuscivo a vedere il suo viso non sentivo che la sua voce suggestiva e piacevole sull'acciottolio del treno sì signore soltanto dopo aver sofferto come ho sofferto soltanto grazie a questo ho capito dove sta la radice di tutto ho capito quello che deve essere e perciò ho visto tutto l'orrore di quello che è e che guardate pure ecco come e quando è cominciato ciò che mi ha condotto al mio episodio la cosa cominciò che non avevo ancora 16 anni accadde quando ero al ginnasio e il mio fratello maggiore era studente del primo anno non conoscevo ancora le donne ma come tutti gli sventurati fanciulli del nostro ambiente non ero più un ragazzo innocente già da un anno ero stato corrotto dai ragazzi la donna non una qualunque ma la donna come qualcosa di dolce la donna ogni donna la nudità della donna mi tormentava già i miei isolamenti erano impuri mi tormentava come si tormentano i 99 centesimi dei nostri ragazzi e non ridivo soffrivo pregavo e cadevo ero già corrotto nell'immaginazione e nella realtà ma non avevo ancora fatto l'ultimo passo mi perdevo da solo ma senza ancora mettere le mani su un altro essere umano ed ecco che un compagno di mio fratello studente buontempone un cosiddetto buon figliuolo cioè un grandissimo mascalzone avendoci insegnato a bere e a giocare a carte dopo una bevuta ci indusse ad andare laggiù ci andammo mio fratello pure era ancora innocente e cadde quella stessa notte ed io ragazzino sedicenne macchiai me stesso e contribuì a macchiare una donna senza capire affatto quello che facevo infatti da nessuno dei più anziani avevo mai sentito dire che quello che facevo fosse male ma neppure adesso nessuno lo sentirebbe dire è vero che questo c'è in un comandamento ma si sa che i comandamenti servono soltanto per rispondere all'esame al padre e dal resto non servono un granché assai meno del comandamento intorno all'uso del lut nelle proposizioni concessive sicché dalle persone più anziane di cui rispettavo le opinioni non avevo mai sentito che fosse male al contrario avevo sentito da persone che rispettavo che era ben fatto avevo sentito che le mie notte e sofferenze dopo questo si sarebbero calmate avevo sentito e letto avevo sentito dalle persone più anziane che per la salute sarebbe stato un bene ai miei compagni poi avevo sentito che in questo c'era un certo merito e ardimento sicché in genere non si vedeva nulla in questo che non fosse buono pericolo di malattia ma anche quello si sa è previsto se ne occupa premurosamente il governo esso sorveglia la regolare attività delle case di tolleranza e garantisce la depravazione per gli alunni delle scuole medie e dei medici stipendiati sorvegliano la casa così deve essere e si affermano che la depravazione può essere utile alla salute e creano loro stessi una depravazione regolare metodica conosco delle madri che si prendono cura in questo senso della salute dei loro figli e la scienza li manda nelle case di tolleranza e perché mai la scienza ma chi sono i medici i sacerdoti della scienza chi deprava gli adolescenti asserendo che questo è necessario per la salute sono loro e poi con grande area di importanza si cura la sifilide ma perché mai non si dovrebbe curare la sifilide perché se un centesimo di quegli sforzi che sono stati posti nella cura della sifilide sono stati rivolti a sradicare la depravazione e la sifilide non ci sarebbe da un pezzo neanche il ricordo invece gli sforzi sono rivolti non a sradicare la depravazione ma a incoraggiarla a garantire l'incolumità della depravazione ma non si tratta di questo ecchi a me ai nove decimi se non di più non solo della nostra classe ma di tutte perfino dei contadini è accaduto il fatto tremendo di essere caduto non per aver soggeciuto alla soggezione delle attrattive di una determinata donna no nessuna donna mi ha sedotto e sono caduto perché l'ambiente che mi circondava vedeva in quello che era una caduta gli uni la più legittima e più sana delle funzioni gli altri il passatempo più morale e non solo perdonabile ma anche innocente per un giovanotto io non capivo che qui ci fosse una caduta cominciai semplicemente ad abbandonarmi a quelli che in parte erano piaceri in parte esigenze proprio a quanto mi si era fatto credere di una certa età cominciai ad abbandonarmi a quella depravazione come avevo cominciato a bere e a fumare e pur tuttavia in quella prima caduta ci fu qualcosa di particolare e di commovente ricordo che subito già lì prima di uscire dalla camera mi venne una tristezza tale da aver voglia di piangere piangere sulla mia innocenza perduta sul mio atteggiamento verso la donna rovinato per sempre sì signore atteggiamento naturale semplice verso la donna era rovinato per sempre da allora non ebbi né potei avere più un atteggiamento puro verso la donna ero diventato quello che si dice un fornicatore ed essere un fornicatore è una condizione fisica simile alla condizione del morfinomene dell'ubriacone del fumatore inveterato come il morfinomene l'ubriacone il fumatore inveterato non è più un uomo normale così l'uomo che ha conosciuto parecchie donne per il suo piacere non è più normale ma un fornicatore corrotto per sempre come un ubriacone o un morfinomene si può riconoscere subito dal volto così pure anche un fornicatore un fornicatore può moderarsi lottare ma un atteggiamento semplice chiaro puro verso la donna un atteggiamento fraterno non l'avrà mai più dal modo come guarda come esamina una donna giovane si può subito riconoscere il fornicatore e io diventai un fornicatore e tale rimasi e questo appunto mi ha rovinato sì proprio così poi andò avanti avanti ci furono relazioni di ogni genere dio mio quando ricordo tutte le mie turpitudini sotto questo aspetto sono preso dall'orrore di me che i miei compagni delidevano per la mia cosiddetta innocenza o di questi ricordi e se poi sentissimo parlare della genestore degli ufficiali dei parigini e tutti questi signori e anch'io quando depravati trentenni che avevamo sulla coscienza centinaia dei più diversi orrendi delitti riguardo alle donne quando depravati trentenni ben lavati rasati profumati con la biancheria pulita in fracco in uniforme entravamo in un salotto in un ballo eravamo l'emblema della purezza una delizia pensate un po' a quello che dovrebbe essere e a quello che è dovrebbe essere così che quando in società a mia sorella o a mia figlia si accosta un signore di quel genere io conoscendo la sua vita dovrei avvicinarmi a lui chiamarlo in disparte e dirgli piano mio caro lo so bene come hai vissuto come passi le tue notti e con chi qui non è posto per te qui ci sono delle fanciulle pure innocenti vattene così dovrebbe essere e invece è così e quando compare un signore di quel genere e balla abbrazzato con mia sorella o con mia figlia esultiamo sei ricco e ha delle aderenze c'è caso che dopo un ericolbos degni della sua attenzione anche mia figlia seppure sono rimaste tracce di indisposizione non importa adesso si sa curare bene come no so che alcune fanciulle dell'alta società sono state maritate con entusiasmo dai genitori a dei malati di una certa malattia ah ah turpitudine verrà bene il momento in cui si smaschererà questa turpitudine e questa menzogna e per parecchie volte egli emise quei suoi strani suoni e si mise a bere il tè il tè era straordinariamente forte non c'era acqua per diluirlo io sentivo che mi rendevano agitato soprattutto i bicchieri che ne avevo bevuto si vede che anche su di lui agiva il tè perché diventava sempre più eccitato la sua voce diventava sempre più cantante ed espressiva continuamente cambiava posizione ora si toglieva il berretto ora se lo metteva e il suo viso mutava straordinariamente nella penombra in cui eravamo ebbene ecco come vissi fino ai trent'anni senza abbandonare neppure per un momento l'intenzione di ammogliarmi e di organizzarmi la più elevata la più pura vita familiare e con questo scopo mi guardavo in giro per trovare la ragazza adatta a questo scopo e gli continuò mi insudiciavo nel marciume della depravazione e nello stesso tempo mi guardavo in giro per trovare delle ragazze che per la loro purezza fossero degne di me molte le scartai proprio perché non erano abbastanza pure per me finalmente ne trovai una che ritenni degna di me era una delle due figlie di un possidente della provincia di Pensa che un tempo era stato molto ricco ma si era rovinato una sera dopo che eravamo stati in barca e tornavamo a casa a notte a lume di luna e io ero seduto accanto a lei e ammiravo la sua figuretta slanciata passata da un jersey e i suoi rizzoli conclusi a un tratto che era lei mi parve quella sera che capitasse tutto tutto ciò che io sentivo e pensavo e mi pareva di sentire e pensare le cose più elevate in sostanza invece era soltanto questo che il jersey le stava particolarmente bene come pure i riccioli e che dopo una giornata trascorsa vicino a lei mi era venuta voglia di una vicinanza anche maggiore è stupefacente come sia piena l'illusione che la bellezza sia virtù una bella donna dice delle sciocchezze ascolti e non senti le sciocchezze ma senti delle cose intelligenti dice e fa delle porcherie ma tu vedi qualcosa di grazioso quando poi non dice né sciocchezze né porcherie ma è bella sei subito sicuro che sia un prodigio di intelligenza e di moralità tornai a casa pieno di entusiasmo e conclusi che lei era un miracolo di perfezione morale e che appunto per questo era degna di diventare mia moglie e il giorno dopo le feci la mia proposta di matrimonio che confusione è mai questa tra mille uomini che prendono moglie non solo di quelli che vivono come noi ma sventuratamente anche del popolo è difficile che ce ne sia almeno uno che non abbia preso moglie già una decina di volte o anche un sentinaio e un migliaio come don Giovanni prima del matrimonio è vero che adesso a quel che odo e osservo ci sono dei giovani puri i quali sentono e sanno che non si tratta di uno scherzo ma di una grave questione che Dio li aiuti ma al tempo mio di questi non ce n'era neppure uno su diecimila e tutti lo sanno e fingono di non saperlo in tutti i romanzi sono descritti fino ai minuti particolari i sentimenti dei protagonisti gli stagni e gli arbusti vicini ai quali passano ma descrivendo il loro grande amore per qualche ragazza non si scrive nulla di quanto è capitato prima a quel seducente protagonista neppure una parola sulla sua frequentazione di quelle certe case sulle cameriere sulle cuoche sulle mogli altrui se poi dei romanzi così sconvenienti esistono non li mettono in mano soprattutto a coloro che hanno più bisogno di saperlo alle fanciulle in principio si finge dinanzi alle fanciulle che quella dissolutezza che riempie metà della vita delle nostre città e perfino delle campagne che quella dissolutezza non esista affatto poi ci si abitua tanto a questa finzione che finalmente si comincia a credere con sincerità come gli inglesi che siamo tutti persone morali e viviamo in un mondo morale le ragazze loro poverine ci credono con piena serietà così ci credeva anche la mia sventurata moglie ricordo come durante il fidanzamento le mostra il mio diario dal quale poteva venire a sapere almeno qualcosa sul mio passato e soprattutto intorno all'ultima relazione che avevo avuto e di cui poteva avere notizie da altri e di cui perciò sentivo la necessità di parlarle ricordo il suo orrore la sua disperazione e il suo smarrimento quando seppe e capì vedevo che allora voleva lasciarmi e perché non mi lasciò e mise quel suono beve ancora un sorso di tè e tacque per un poco no nel resto meglio così meglio così e gli gridò me lo merito ma non si tratta di questo volevo dire che in questo caso non sono ingannate altro che quelle sventurate fanciulle ma le madri lo sanno particolarmente le madri educate dai propri mariti lo sanno benissimo e fingendo di credere alla purezza degli uomini in realtà agiscono in tutt'altro modo sanno qual è l'amo a cui farà boccare gli uomini per sé e per le loro figlie perché non siamo che noi uomini a non sapere e non sappiamo perché non vogliamo sapere ma le donne sanno benissimo che l'amore più elevato più poetico come lo chiamiamo non dipende dalle qualità morali ma dalla vicinanza fisica e per di più dalla pettinatura dal colore e dal taglio del vestito dita è un'esperta civetta che si sia imposto il compito di retiro un uomo se preferisce correre il rischio di essere accusata fondatamente di menzogna di crudeltà perfino di dissolutezza in presenza di colui che sta seducendo oppure di mostrarsi alla presenza di lui con un vestito malfatto e brutto ciascuna preferirà sempre la prima cosa la donna sa che quello che noi diciamo dei sentimenti elevati sono tutte bugie che non abbiamo bisogno che del corpo e perciò perdoniamo qualsiasi porcheria ma un abito mancato senza gusto inelegante non lo perdoneremmo la civetta lo sa coscientemente ogni fanciulla innocente lo sa inconscientemente come lo sanno gli animali ecco la ragione di questi gersi di questi odiosi sgonfi di queste spalle e braccia nude di questi petti seminudi le donne e particolarmente quelli che sono passati attraverso la scuola dell'uomo sanno molto bene che i discorsi su argomenti elevati sono discorsi e che l'uomo ha bisogno del corpo e di tutto ciò che lo mette in mostra nella luce più ingannatrice ma più attraente e questo appunto è quel che si fa perché basta mettere da parte l'abitudine a questa indecenza che per noi è diventata una seconda natura e vedere la vita delle nostre classi superiori com'è con tutta la sua impudenza per accorgersi che è una sola vasta casa di tolleranza non siete d'accordo permettete ve lo dimostro fece interrompendomi voi dite che le donne del nostro ambiente hanno altri interessi nella vita che non le donne delle case di tolleranza e io dico di no e ve lo dimostro se le persone sono diverse quanto agli scopi della vita quanto al contenuto interiore della vita questa diversità si rispecchia è immancabilmente anche nell'apparenza e l'apparenza è diversa ma guardate quelle le sventurate le disprezzate e le signore della più alta società sono le medesime acconciature le medesime mode i medesimi profumi il medesimo denudamento delle brazza delle spalle del petto e la medesima esposizione del sedere sotto la stoffa ben tesa la medesima passione per le pietre per le cose scintillanti e preziose i medesimi divertimenti il ballo e la musica il canto come quelle così pure queste adescano con tutti i mezzi non c'è nessuna differenza dando una definizione rigorosa non rimane se non da dire che quelle che fanno le prostitute per brevi periodi di solito sono disprezzate e quelle che fanno le prostitute per lunghi periodi di solito sono rispettate sì è così questi dersi e riccioli e sgonfi mi accalappiarono accalappiarmi era facile perché ero stato educato in quelle condizioni in cui si fanno maturare rapidamente come cetrioli primatizi i giovanotti innamorati perché la nostra supernutrizione eccitante unita a un pieno ozio fisico non è nient'altro che un'infiammazione sistematica della concupiscenza che ve ne stupiate o no è così del resto anch'io fino a questi ultimi tempi non vedevo niente di tutto ciò l'ho visto adesso per questo appunto soffro che non lo sappia nessuno e che si dicano delle sciocchezze tali come le diceva quella signora là sì signore questa primavera vicino a casa mia dei contadini lavoravano al terrapieno della ferrovia il nutrimento consueto di un contadino giovane è pane kvas cipolla costrui è vivace pronto allegro compie il lieve lavoro dei campi trova posto alle ferrovie il suo vitto è una cascia e una libra di carne ma in compenso questa carne gli va via in un lavoro di 16 ore al giorno con una carriola del peso di 30 libre e sta appena bene ma noi che mangiamo due libri di carne per uno e selvaggina e pesce e svariati cibi e bevande che riscaldano dove ci va a finire questa roba in eccessi sensuali in eccessi sensuali e se va a finire là la valvola di sicurezza è aperta e tutto procede bene ma socchiudete la valvola come l'avevo temporaneamente socchiusa io e ne deriverà subito un'eccitazione che passando attraverso il prisma della nostra vita artificiosa li esprimerà in un innamoramento della più bell'acqua a volte perfino platonico e io mi innamorai come si innamorano tutti e c'era tutto gli entusiasmi la commozione la poesia ma in sostanza questo mio amore era il prodotto da un lato dell'attività della madre e dei sarti dall'altro dell'eccesso del cibo da me ingurgitato in una vita oziosa se non ci fossero state da un lato le gite in barca se non ci fossero stati i sarti con i loro vitini e simili e mia moglie fosse stata vestita da una vestaglia malfatta e fosse rimasta a casa e dall'altro lato se io fossi stato in condizioni normali cioè una persona che ingurgita la quantità di cibo necessaria per il suo lavoro se fosse stata aperta la mia valvola di sicurezza mentre chissà perché si era socchiusa in quel tempo non mi sarei innamorato e nulla di questo sarebbe accaduto ebbene in questo caso le mie condizioni erano adatte il vestito era bello la gita in barca riuscita bene venti volte non era riuscita e in questo caso riuscì una specie di trappola non dico per ridere perché adesso i matrimoni sono fatti proprio come trappole infatti che cosa sarebbe naturale se una ragazza si è fatta adulta bisogna darle marito sembra così semplice quando la ragazza non è un mostro e ci sono degli uomini che vogliono ammogliarsi così appunto si faceva al tempo antico quando una ragazza raggiungeva l'età i genitori disponevano le nozze così si faceva e si fa nell'umanità tutta tra i cinesi i pelli rosse i maomettani da noi tra il popolo così si fa nel genio umano o almeno nei suoi 99 centesimi soltanto una centesima parte o ancor meno di noi dissoluti abbiamo ritenuto che non andasse bene e abbiamo escugitato qualcosa di nuovo ma che cosa c'è mai di nuovo c'è di nuovo che le fanciulle stanno lì e gli uomini come se fossero al mercato vengono e scelgono e le fanciulle aspettano e pensano ma non osano dire me padre mio no me non lei ma me guarda come ho le spalle e il resto e noi uomini passiamo osserviamo e siamo contenti lo so bene non mi ci faccio prendere passano so guardano e sono molto contenti che tutto sia preparato per loro a questo modo guarda un po' non ci ho fatto caso ma basta un colpo e ci sei ma allora com'è dissi io deve forse essere la donna a fare la proposta di matrimonio ma non so proprio com'è tuttavia se l'eguaglianza c'è l'eguaglianza sia se si è ritenuto che combinare i matrimoni fosse umiliante questo poi lo è mille volte di più là i diritti e le probabilità sono uguali mentre qui la donna è una schiava al mercato o l'esca di una trappola quella dell'andare in società dite a una madre o alla ragazza stessa la verità che essa non è ad altro intenta che nel dare la caccia a un marito dio mio che offesa eppure loro tutte non fanno altro e non hanno altro da fare e quello che è tremendo è vedere occupate a volte in questo delle povere fanciulle ingenue ancora giovanissime e ripeto almeno la cosa fosse fatta apertamente mentre invece non è che inganno oh l'origine della specie com'è interessante lì si interessa molto di pittura e voi verrete all'esposizione come istruttiva e il tiratré e i teatri e la sinfonia che meraviglia la mia lì è pazza per la musica e voi perché non dividete queste opinioni e in barca e il pensiero è uno solo prendimi prendimi prendi la mia lì no me su almeno prova oh turpitugine menzogna e gli concluse e dopo aver finito il suo ultimo resto di tè cominciò a mettere via le tazze e le stoviglie sì sapete e gli cominciò riponendo il tè e lo zucchero nella sacca è per la dominazione delle donne che il mondo soffre tutto deriva da quello come la dominazione delle donne disse io i diritti la prevalenza dei diritti ce l'hanno gli uomini sì sì è questo è proprio questo e gli fece interrompendomi è proprio questo che voglio dirvi è questo appunto che spiega lo straordinario fenomeno per cui da un lato è verissimo che la donna è ridotta al grado di umiliazione più basso mentre dall'altro lato domina proprio come gli ebrei come essi con la loro potenza pecuniaria si vendicano della propria oppressione così fanno anche le donne ah voi volete che siamo solamente commercianti va bene noi come commercianti si impadroniremo di voi dicono gli ebrai ah voi volete che siamo solamente oggetto di sensualità va bene noi come oggetto di sensualità li ridurremo in schiavitù dicono le donne la mancanza di diritti della donna non consiste nel non poter votare o fare giudice occuparsi di queste cose non costituisce nessun diritto bensì di essere uguale all'uomo dal punto di vista sessuale di avere il diritto di usare dell'uomo e astenersene a proprio piacimento di scegliere a proprio piacimento l'uomo e non essere scelta voi dite che è un'indecenza va bene allora che neanche l'uomo abbia questi diritti mentre adesso la donna è priva del diritto che ha l'uomo ed ecco che per compensare questo diritto essa agisce sulla sensualità dell'uomo e attraverso la sensualità lo asservisce a tal punto che sceglie lui solamente per la forma ma in realtà è lei che sceglie e una volta impadronitasi di questo sentimento essa certo ne abusa e acquista un potere eccezionale sulla gente ma dov'è questo particolare potere chiesi io dov'è questo potere ma dappertutto in ogni cosa girate per i negozi in qualunque grande città là ci sono dei milioni è impossibile valutare le fatiche umane che vi sono state spese ma guardate i nove decimi di quei negozi c'è forse qualcosa per uso degli uomini tutto il lusso dell'esistenza è richiesto e tenuto su dalle donne contate tutte le fabbriche una grandissima parte di esse fa ornamenti senza utilità carrozze mobili giocattoli per le donne milioni di persone generazioni di schiavi periscono nel lavoro da galera delle fabbriche solo per il capriccio delle donne le donne come regine tengono prigionieri della schiavitù e del lavoro pesante i nove decimi del genere umano è tutto perché le hanno umiliate privandole dell'eguaglianza di diritti con gli uomini ed ecco che esse si vendicano agendo sulla nostra sensualità cogliendoci nelle loro reti sì tutto per questo le donne si sono trasformate in un tale strumento di eccitazione della sensualità che l'uomo non può trattare con tranquillità la donna non appena l'uomo si avvicina alla donna cade subito sotto la sua azione tossica e diventa pazzo anche prima provavo sempre disagio e timore quando vedevo una signora agghindata in abito da ballo ma adesso ho proprio paura ci vedo proprio qualcosa di pericoloso per la gente ed illegale e avrei voglia di chiamare un poliziotto di chiedere aiuto contro quel pericolo di esigere che venga tolto via messo da parte quell'oggetto pericoloso ma voi ridete e gli mi gridò e invece non è affatto uno scherzo sono sicuro che verrà un tempo e forse molto presto che gli uomini lo capiranno e si stupiranno che potesse esistere una società in cui fossero ammesse azioni così perturbatrici della quiete sociale come quegli ornamenti del proprio corpo addirittura eccitatori della sensualità che sono ammessi per le donne nella nostra società perché è lo stesso che distribuire trappole da ogni genere sulle passeggiate per i viottoli anzi peggio come mai il gioco d'azzardo è proibito e le donne in acconciature da prostitute e le donne in acconciature da prostitute che tali da eccitare la sensualità non sono proibite sono mille volte più pericolose ebbene così appunto venne accarappiato ero quel che si dice innamorato non solo me la raffiguravo come un culmine di perfezione ma raffiguravo anche me stesso in quel tempo del mio fidanzamento come un culmine di perfezione infatti non c'è mascalzone io dopo aver cercato un po' non trovi dei mascalzoni che per qualche rispetto sono peggiori di lui e che perciò non possa trovare una ragione di inorgoglirsi e di essere contento di sé e così anch'io non mi sposavo per denari l'interesse non c'entrava non era come per la maggioranza dei miei conoscenti che si sposava per i denari e per le aderenze io ero ricco lei era povera questo era uno un'altra cosa di cui ero orgoglioso era che gli altri si sposavano con l'intenzione di continuare a vivere nella medesima poligamia in cui vivevano prima del matrimonio mentre io avevo la ferma intenzione dopo le nozze di attenermi alla monogamia e a causa di ciò il mio orgoglio non aveva limiti sì ero un gran porco e mi immaginavo di essere un angelo il tempo che fui fidanzato non durò a lungo adesso non posso ricordare senza vergogna questo tempo del fidanzamento che orrore infatti si sottintende un amore spirituale e non sensuale ebbene se l'amore fosse spirituale una comunione spirituale questa comunione spirituale dovrebbe esprimersi con parole discorsi colloqui invece non ci fu niente di tutto questo quando rimanevamo soli a parlare di solito era tremendamente difficile che lavoro di Sisyfo era mai appena avevi scogitato qualcosa da dire e lo dicevi bisognava di nuovo tacere e immaginare qualcosa non c'era di che parlare tutto quello che si poteva dire sulla vita che ci attendeva sulla nostra sistemazione sui nostri progetti era stato detto e dopo perché se fossimo stati bestie avremmo saputo benissimo che non avevamo da parlare ma lì al contrario parlare si doveva ed era inutile perché ci interessava qualcosa che non si risolve con i discorsi e per di più ancora quell'indecente uso dei confetti della volgare voracità di dolciumi e tutti quegli infami preparativi del matrimonio i discorsi sull'alloggio sulla camera da letto sui letti sulle vestaglie sulle vesti da camera sulla biancheria sulle toilette dovete capire che se ci si sposa secondo le regole del demonstroi come diceva quel vecchio i piumini il corredo il letto sono tutti non altro che particolari che accompagnano il sacramento ma tra noi quando su dieci che contraggono matrimonio ce n'è forse uno che non solo crede al sacramento ma crede perfino che quello che sta facendo costituisce un certo obbligo quando su cento uomini ce n'è forse uno che non abbia già avuto moglie prima e uno su cinquanta che non si prepari anticipatamente a tradire la propria moglie ad ogni occasione favorevole quando la maggioranza guarda l'andata in chiesa soltanto come una speciale condizione per possedere una certa donna pensate in questo caso che orribile significato assumono tutti questi particolari ne risulta che tutto sta in questo ne risulta una specie di vendita a un depravato viene venduta una fanciulla innocente e questa vendita è accompagnata da determinate formalità così si sposano tutti così mi sposai anch'io e iniziò la lodata luna di miele perché se non altro anche il nome quanto è vile egli sibilò con ira una volta a Parigi giravo tutti gli spettacoli ed entrai a vedere secondo quanto diceva il cartello la donna barbuta e il cane marino risultò che non era nient'altro che un uomo scollato vestito da donna e un cane ficcato in una pelle di foca che nuotava in una vasca da bagno piena d'acqua tutto ciò era molto interessante ma mentre uscivo l'imbonitore mi accompagnò cortesemente rivolgendosi alla gente che stava all'entrata disse indicandomi ecco chiedete a questo signore se vale la pena di venire a vedere entrate entrate un franco a testa io mi vergognavo di dire che non valeva la pena di andare a vedere e su questo punto probabilmente contava l'imbonitore così capita probabilmente anche a quelli che hanno sperimentato tutto l'orrore della luna di miele e non disingannano gli altri anch'io non disingannaio nessuno ma adesso non vedo perché non bisognerebbe dire la verità ritengo perfino che sia indispensabile dire la verità su questo argomento ci si sente a disagio ci si vergogna ci prova ribrezzo e pietà ma soprattutto ci si annoia ci si annoia fino all'inverosimile è una specie di quello che provavo quando imparavo a fumare quando avevo dei conati di vomito e mi colava la saliva ma io la inghiottivo e facevo finta che mi piacesse molto il piacere del fumo come pure questo e verrà verrà dopo bisogna che lo sposo educhi questo vizio nella moglie per ritrarne piacere come vizio dissi io ma voi parlate della più naturale proprietà umana naturale gli disse naturale no vi dirò al contrario che mi sono convinto che è una cosa non naturale sì interamente non naturale chiedete ai ragazzi chiedete a una fanciulla che non sia depravata mia sorella andò sposa molto giovane a un uomo che era due volte più vecchio di lei e un depravato ricordo come ci meravigliamo la notte del matrimonio quando lei pallida in lacrime gli scappò via e tremando in tutto il corpo diceva che non avrebbe fatto a nessun costo che non avrebbe neppure potuto raccontare quello che lui voleva da lei voi dite naturale è naturale è naturale mangiare e mangiare è una cosa che fin da principio è lieta facile piacevole non è vergognosa questa invece è abominevole è vergognosa è dolorosa no è naturale è una fanciulla che non sia corrotta ne sono convinto la odia ma come dissi io come continuerebbe il genere umano sì purché non vada perso il genere umano e gli disse con astiosa ironia come se si fosse aspettato questa obiezione che conosceva ed era in mala fede predicare la continenza nella generazione in nome della possibilità per i lord inglesi di continuare sempre a rimpinzarsi è permesso predicare la continenza nella generazione in nome di una maggior piacevolezza di vita è permesso ma basta accennare lontanamente alla continenza nella generazione nel nome della morale padri santi che grida purché il genere umano non si interrompa per il fatto che una decina o due di persone vogliono smettere di essere dei porci il resto scusate a me da noia questa luce posso coprirla e gli disse indicando la lanterna io dissi che per me era lo stesso e allora lui con la fretta che metteva in tutto quel che faceva salì sul sedile e coprì la lanterna con la sua tendina di lana eppure disse io se tutti lo ammettessero come legge il genere umano si interromperebbe egli non rispose subito voi dite come continuerà il genere umano egli fece sedendosi di nuovo di fronte a me con le gambe molto aperte e appoggiando visichino con i gomiti e perché mai dovrebbe continuare il genere umano disse come perché altrimenti noi non ci saremmo e perché dobbiamo essersi come perché ma per vivere e perché vivere se non esiste nessuno scopo e la vita c'è data per se stessa è inutile vivere sai così gli Schopenhauer e gli Hartman come tutti i buddisti hanno perfettamente ragione e se poi nella vita c'è uno scopo è chiaro che la vita deve cessare quando si è raggiunto lo scopo la conclusione è proprio questa notate che se lo scopo dell'umanità è ciò che è detto nelle profezie che tutti gli uomini siano uniti insieme dall'amore che le lance siano trasformate in falsi eccetera al raggiungimento di questo scopo che cosa si frappone? si frappongono le passioni tra le passioni la più forte cattiva e ostinata è l'amore sessuale carnale e perciò se saranno distrutte tutte le passioni e anche l'ultima la più forte di esse l'amore carnale la profezia si adempierà i uomini si uniranno insieme lo scopo dell'umanità sarà raggiunto ed essa non avrà più ragione di vivere ma finché l'umanità vive resta dinanzi un ideale e non è si intende l'ideale dei conigli o dei maiali di moltiplicarsi il più possibile né quello delle scimmie dei parigini di usufruire nel modo più raffinato dei piaceri della passione sessuale ma un ideale di bene che si raggiunge con la continenza e con la purezza adesso hanno sempre teso e tendono gli uomini e guardate che cosa ne risulta ne risulta che l'amore carnale è la valvola di sicurezza se la generazione umana che vive adesso non ha raggiunto lo scopo non l'ha raggiunto solamente perché ha in sé delle passioni e la più forte di esse è quella sessuale ma se c'è la passione sessuale c'è anche una nuova generazione cioè la possibilità di raggiungere lo scopo nella generazione seguente se non lo raggiunge neanche questa c'è di nuovo la seguente e così fino a che non si è raggiunto lo scopo non si è adempiuta la profezia e gli uomini non si uniscano insieme altrimenti infatti che cosa ne verrebbe fuori ammettiamo che Dio abbia creato gli uomini per il raggiungimento di un determinato fine e li abbia creati o mortali senza la passione e li abbia creati o mortali senza la passione sessuale o eterni se fossero mortali ma senza la passione sessuale che cosa ne risulterebbe che vivrebbero e morirebbero senza aver raggiunto lo scopo e per raggiungere lo scopo Dio dovrebbe creare dei nuovi uomini se invece fossero eterni mettiamo benché sia più difficile per le medesime persone che non per delle nuove generazioni correggere gli errori e avvicinarsi alla perfezione mettiamo che lo raggiungessero dopo parecchie migliaia d'anni ma allora a che servirebbero? dove si dovrebbero mettere? il meglio è proprio così come stanno le cose ma forse questa forma d'espressione non vi piace e siete un evoluzionista ma anche allora il risultato è uguale la specie animale superiore è quella umana per conservarsi nella lotta con gli altri animali essa deve stringersi insieme come uno sciame d'api e non moltiplicarsi all'infinito come le api deve educare degli assessuati cioè tendere di nuovo alla continenza e non certo l'eccitazione della concupiscenza a cui è rivolta tutta la struttura della nostra esistenza e gli per un po' t'acque il genere umano si interromperà ma è possibile che qualcuno comunque veda il mondo possa dubitarne perché altrettanto è indubitabile come la morte perché secondo tutte le dottrine religiose verrà la fine del mondo e secondo tutte le dottrine scientifiche è inevitabile la stessa cosa che c'è di strano allora che secondo la dottrina morale si giunga al medesimo risultato dopodiché gli tacque a lungo finì di fumare la sigaretta e trattene delle altre dalla sacca le mise nel suo vecchio portasigarette macchiato capisco il vostro pensiero disse io gli scheker affermano qualcosa di simile sì sì e hanno ragione e gli disse una passione sessuale comunque sia presentata è un male un male tremendo col quale bisogna lottare invece di incoraggiarlo come si fa da noi le parole del Vangelo secondo cui chi guarda una donna con concupiscenza ha già commesso adulterio con lei non si riferiscono solamente alle mogli altrui ma precisamente soprattutto alla propria moglie non si riferiscono all'interno e non si riferiscono all'interno e non si riferiscono all'interno per quanto cercassi di farmi una luna di mele non riuscivo a nulla provavo di continuo disgusto vergogna e noia ma ben presto l'umore divenne anche tormentosamente penoso la cosa cominciò ben presto dopo due o tre giorni mi pare la trovai malinconica cominciai a chiederle come mai cominciai ad abbracciarla che era tutto quello che secondo me poteva desiderare e lei allontanò la mia mano e si mi sa piangere perché piangesse non sapeva dirmelo ma era triste accorata probabilmente i suonari spossati le avevano suggerito la verità sulla disgustosità dei nostri rapporti ma non sapeva dirla cominciai a interrogarla lei disse qualcosa accennando che si sentiva triste senza la madre mi pare che non fosse vero cominciai a dirle delle parole di incoraggiamento senza parlare della madre non capivo che la madre era semplicemente accorata e la madre non era che un pretesto ma lei si offese subito che avessi taciuto della madre come se non le avessi creduto mi disse che vedeva che non l'amavo io le accusai d'essere capricciosa e ad un tratto il viso le si mutò interamente invece della tristezza mi si espresse l'irritazione e con le parole più velenose cominciò a rimproverarmi di egoismo e di crudeltà io la guardai il suo viso esprimeva la freddezza e l'ostilità più piena quasi un odio per me ricordo come fui preso da spavento vedendolo come che cos'è pensavo l'unione è un'unione delle anime e invece ecco che cos'è ma è possibile ma non è lei provai a placarla ma cozzai contro una muraglia così insormontabile di fredda velenosa ostilità che in un batter d'occhio l'irritazione prese anche me e ci dicemmo vicendevolmente un mucchio di cose spiacevoli l'impressione di quel primo litigio era tremenda io lo chiamavo litigio ma litigio non era ma bensì soltanto lo svelarsi dell'abisso che c'era in realtà tra noi l'innamoramento si era esaurito con la soddisfazione della sensualità ed eravamo rimasti l'uno di fronte all'altro in quello che erano i nostri autentici rapporti vicendevoli cioè come due egoisti interamente strane l'uno all'altro e desiderosi di ottenere l'uno per mezzo dell'altro il maggior piacere possibile io chiamavo litigio quello che era avvenuto tra noi ma litigio non era bensì solamente la conseguenza dell'accessazione dello stato di sensualità che rivelava i nostri autentici rapporti vicendevoli non capivo che questi rapporti freddi e ostili erano i nostri rapporti normali non lo capivo perché i nostri rapporti ostili nei primi tempi ci vennero ancora una volta nascosti da una distillata sensualità nuovamente sollevatasi in noi cioè dall'innamoramento e io pensavo che avessimo litigato e fatto pace e che questo non sarebbe più accaduto ma in quella stessa luna di miele venne di nuovo assai presto un periodo di sazietà e di nuovo cessammo di essere necessari l'uno all'altro e avvenne di nuovo un litigio questo litigio mi colpì ancora più dolorosamente del primo sicché il primo non è stato un caso ma così doveva essere e così sarà pensavo io il secondo litigio mi colpì tanto maggiormente in quanto sorse col pretesto più assurdo qualcosa che si riferiva ai denari che io non ho mai lesinato e che certo per mia moglie non avrei mai potuto lesinare ricordo solamente che lei dirò la cosa in modo che una mia osservazione venne ad essere l'espressione del mio desiderio di dominarla per mezzo dei denari sui quali avrei affermato il mio diritto esclusivo qualcosa di impossibile di sciocco di vile di non naturale né per me né per lei io mi irritai cominciai a rimproverarla di poca discrezione lei rimproverò me e si tornò da capo e nelle parole e nell'espressione del suo viso e negli occhi ne vedi di nuovo quella crudele fredda ostilità che prima m'aveva tanto colpito ricordo che con mio fratello con i miei amici con mio padre avevo litigato ma tra noi non c'era mai stato quel particolare velenoso risentimento che c'era qui ma passò qualche tempo e di nuovo quest'odio reciproco fu nascosto dall'innamoramento cioè dalla sensualità e io mi consolai col pensiero che questi due litigi erano stati errori che si potevano riparare ma ecco che venne il terzo il quarto litigio e io capì che non era il caso e che così doveva essere e così sarebbe stato e non ridì di ciò che mi attendeva inoltre mi tormentava ancora l'orribile pensiero che ero io solo ad andare così poco d'accordo con mia moglie tanto diversamente da quel che mi aspettavo mentre negli altri matrimoni questo non accadeva a quel tempo non sapevo ancora che è un destino comune ma che tutti pensano come me che sia una loro sventura esclusiva nascondono questa loro esclusiva vergognosa sventura non solo agli altri ma anche a se stessi non lo confessano neppure a se stessi cominciò dai primi giorni e continuò per tutto il tempo e con forza in asprimento sempre maggiori nel profondo dell'animo sentii fin dalle prime settimane che ero rovinato che il risultato era assai diverso da quello che mi aspettavo che il matrimonio non solo non era la felicità ma addirittura qualcosa di molto penoso ma come tutti non volevo confessarmelo non me lo confesserei neppure adesso non ci fosse stata quella fine e lo nascondevo non solo agli altri ma anche a me stesso ora mi stupisco come non vedessi la mia vera situazione sarebbe stato possibile vederla non fosse altro che per il fatto che le liti cominciavano da pretesti tali che poi quando finivano era impossibile ricordarsi come mai erano sorte la ragione non faceva in tempo ad escogitare pretesti sufficienti per l'ostilità vicendevole che c'era sempre ma ancora più stufefacente era l'insufficienza dei pretesti di riconciliazione a volte c'erano parole spiegazioni perfino lagrime ma a volte oh fa ribrezzo ricordarlo anche adesso dopo le più crudeli parole reciproche erano silenzosi sguardi sorrisi baci amplessi che orrore come potevo non vedere allora tutto ciò che c'era di ripugnante in questo entrarono due viaggiatori e cominciarono a disporsi in un sedile lontano e gli tacque mentre essi si disponevano ma non appena si furono chetati continuò senza aver perduto neppure per un momento come era evidente il filo del proprio pensiero ecco soprattutto quel che è sudicio e gli cominciò si presuppone in teoria che l'amore sia qualcosa di ideale di elevato eppure in pratica l'amore è qualcosa di schifoso di maialesco che fa schifo e vergogna a parlarne a ricordarlo non per nulla infatti la natura ha fatto sì che se ne provasse schifo e vergogna e se si prova schifo e vergogna vuol dire che le cose stanno così mentre la gente fa finta al contrario che quello che è schifoso e vergognoso sia bellissimo ed elevato quali furono i primi sintomi del mio amore il fatto che mi abbandonavo ad eccessi animaleschi non solo senza vergognarmene ma chissà perché gloriandomi di poter compiere questi eccessi fisici senza pensare affatto intanto non solo alla sua vita spirituale ma addirittura alla sua vita fisica mi chiedevo con meraviglia dove venisse il nostro reciproco astio mentre la cosa era chiarissima questo astio non era nient'altro che la protesta della natura umana contro l'animalesco che la soffocava mi meravigliavo nel nostro odio reciproco eppure non poteva essere diversamente quest'odio non era altro che l'odio reciproco dei complici di un delitto per l'isticazione e la partecipazione al delitto e come non chiamarlo delitto quando lei poverina ingravidò fin dal primo mese e la nostra mealesca relazione continuò pensate che mi allontani dal racconto per nulla non faccio che raccontarvi come ho ucciso mia moglie ma il processo mi chiedono con che e come ho ucciso mia moglie imbecilli pensano che io l'abbia uccisa allora con un coltello il 5 ottobre non l'ho uccisa allora ma molto prima è lo stesso modo come adesso tutti loro uccidono tutti tutti ma con che cosa mai chiesi io questo appunto è stupefacente che nessuno voglia accorgersi di quello che dovrebbero sapere predicare i medici ma di cui tacciono la cosa infatti è straordinariamente semplice l'uomo e la donna sono fatti come gli animali sicché dopo l'amore carnale comincia la gravidanza poi l'allattamento stati in cui sia per la donna che per la sua creatura l'amore carnale è nocivo le donne e gli uomini sono in numero uguale che cosa se ne desume sembra che sia chiaro e non ci vuole una grande saggezza per trarne la conseguenza che ne traggono gli animali cioè la contilenza ma no la scienza è giunta al punto da scoprire non so che i lucociti che corrono nel sangue le delicate sciocchezze d'ogni sorta ma questo non l'ha potuto capire almeno non c'è caso di poter sentire che l'abbia detto ed ecco che per le donne non ci sono che due vie d'uscita una rendersi un mostro distruggere o venire distruggendo in sé secondo il bisogno la capacità d'essere donna e cioè madre perché l'uomo possa tranquillamente e sempre godere di lei o l'altra via che non ha neppure una via d'uscita ma una semplice volgare autentica violazione delle leggi di natura che viene compiuta in tutte le cosiddette famiglie per bene vale a dire che la donna in contrasto con la sua natura debba ad un tempo essere incinta dare il latte e far da amante debba essere come nessun animale si riduce neppure le forze possono bastarle ed è perciò che nel nostro ambiente ci sono gli isterismi ai nervi e nel popolo le invasate notate che tra le ragazze quelle oneste l'invasamento non c'è ma soltanto tra le donne e tra le donne che stanno con i loro mariti così è da noi anche in Europa è proprio lo stesso tutti gli ospedali sono pieni di donne isteriche che violano la legge naturale ma le invasate e i pazienti di Charcot sono quelle del tutto inferme e di donne infermizia è pieno il mondo eppure basterebbe pensare quanto è grande l'opera che si compie nella donna quando ha concepito o quando allatta il bambino che è nato cresce ciò che ci continua ci sostituisce e appunto quest'opera è turbata e da che cosa mai fa paura a pensarci e si parla di libertà dei diritti della donna è come se i cannibali ingrassassero dei prigionieri per mangiarli e nello stesso tempo assicurassero che si preoccupano dei loro diritti e della loro libertà tutto questo era nuovo e mi colpì e allora come si fa se è così dissi io ne deriva che si può amare la propria moglie una volta ogni due anni e l'uomo per l'uomo è indispensabile soggiunse lui sono di nuovo i cari sacerdoti della scienza che hanno persuaso tutti a loro a questi magi farai esercitare l'ufficio di quelle donne che secondo la loro opinione sono indispensabili agli uomini che cosa direbbero allora fate credere ad un uomo che gli sono indispensabili l'acqua vita il tabacco l'oppio e tutto ciò gli sarà indispensabile ne risulta che Dio non sapeva quello che poteva servire e perciò non avendone chiesto ai magi ha fatto male le cose come vedete il problema non torna per l'uomo è necessario indispensabile secondo quanto hanno stabilito loro soddisfare la propria lussuria e qui ci si sono messi di mezzo la procreazione e l'allattamento dei figli che ostacolano la soddisfazione di questa esigenza e che fare allora rivolgetevi ai magi loro accomoderanno le cose e infatti hanno trovato oh quando è che saranno smascherati questi magi con i loro inganni è ora ecco fino a che punto si è arrivati la gente impazzisce e si spara e tutto per questo ed il resto come potrebbe essere altrimenti le bestie è come se sapessero che la loro discendenza continua la razza e sotto questo rispetto si attengono a una determinata legge soltanto l'uomo non sa e non vuole sapere ed è preoccupato solo del modo di avere il maggior piacere possibile e di chi si tratta mai del re della natura dell'uomo perché se osservate le bestie si uniscono solo quando possono produrre una discendenza mentre il sudicio re della natura lo fa sempre purché ne ricavi piacere e contento di questo eleva questa scimmiesca occupazione a perla della creazione ad amore e in nome di quest'amore cioè di una porcheria rovina che cosa mai metà del genere umano tutte le donne che dovrebbero essere delle collaboratrici nel moto dell'umanità verso la verità e il bene egli in nome del proprio piacere rende non delle collaboratrici ma delle nemiche osservate che cos'è che inceppa dappertutto il progresso dell'umanità le donne e come mai sono così ma soltanto per questo sì signore sì signore egli ripete parecchie volte e cominciò a dimenarsi a tirar fuori le sigarette e a fumare desiderando evidentemente di calmarsi un poco e così vivevo da maiale egli seguitò di nuovo col tono di prima ma la cosa peggiore di tutte era che vivendo di questa vita obrobriosa mi immaginavo siccome non ero sedotto dalle altre donne di vivere per conseguenza un'onesta vita familiare d'essere una persona morale e di non aver colpa di nulla e se tra noi avvenivano dei litigi era colpevole lei col suo carattere ma la colpevole si intende non era lei lei era come tutte come la maggioranza era stata educata come vuole la situazione della donna nella nostra società e perciò come sono educate tutte senza eccezione le donne delle classi abbienti e come non possono non essere educate si discorre di una nuova istruzione femminile sono tutte parole l'istruzione della donna deve essere proprio così col modo privo di infingimenti è davvero generale che attualmente si ha di considerare la donna e l'istruzione della donna corrisponderà sempre al modo che ha l'uomo di considerarla infatti noi tutti sappiamo come gli uomini guardano alla donna Wein Weiber und Gesang già lo dicono i poeti nei loro versi prendete tutta la poesia tutta la pittura la scultura a cominciare dalle poesie d'amore e dalle veneri e dalle frini nude vedrete che la donna è uno strumento di godimento tanto alla trube e alla gracevca che al ballo più raffinato e notate l'astuzia del diavolo allora se è godimento se è piacere tanto verrebbe saperlo che è un piacere che la donna è una leccornia no dapprima i cavalieri asseriscono di divinizzare la donna la divinizzano eppure guardano lei come uno strumento di godimento adesso invece asseriscono di rispettare la donna gli uni le cedono il posto le tirano sui fazzoletti gli altri le riconoscono il diritto di ricoprire tutti gli uffici di partecipare all'amministrazione eccetera tutto questo si fa ma il modo di considerarla è sempre uguale essa è uno strumento di godimento il suo corpo è un mezzo di godimento e lei lo sa è come la schiavitù la schiavitù infatti non è che lo sfruttamento da parte di certuni del lavoro forzato di molti e perché la schiavitù non ci sia bisogna che la gente non voglia sfruttare il lavoro forzato degli altri lo consideri un peccato o una vergogna ma invece si si mette ad abolire la forma esteriore della schiavitù si fa in modo che non si possa più stipulare contratti d'acquisto di schiavi e si immagina e ci si vuole convincere che la schiavitù non esista più e non si vede e non si vuole vedere che la schiavitù seguita ad esserci perché la gente continua proprio nello stesso modo ad amare e ritenere opportuno e giusto lo sfruttare il lavoro degli altri e dato che lo ritengono opportuno si troveranno sempre delle persone più forti o più astute delle altre che lo sapranno fare con l'emancipazione della donna è lo stesso infatti la schiavitù della donna consiste soltanto nel fatto che la gente considera e ritiene molto opportuno servirsene come di uno strumento di godimento e così ecco che si dà la libertà alla donna e si concedono ogni sorta di diritti uguali a quelli dell'uomo ma si seguita a guardare a lei come ad uno strumento di godimento e così la si educa nell'infanzia e ad opera della pubblica opinione ed ecco che essa è sempre la stessa schiava umiliata e corrotta mentre l'uomo è sempre lo stesso corrotto possessore di schiave si viene liberando la donna nelle scuole superiori nei tribunali e si guarda a lei come a un oggetto di godimento insegnateli a guardare se stessa nel modo che le è stato insegnato da noi e rimarrà sempre un essere inferiore o con l'aiuto di medici mascalzoni prevarrà il concepimento cioè diverrà in tutto una prostituta discesa non fino al grado di bestia ma fino al grado di cosa oppure diventerà quello che è nella maggior parte dei casi ammalata di malattia mentale isterica e infelice come appunto esse sono senza possibilità di sviluppo spirituale i ginnasi e le scuole superiori non possono mutare la cosa può mutarla soltanto un mutamento nel modo che hanno gli uomini di considerare le donne e le donne di considerare se stesse questo si muterà soltanto quando la donna considererà come lo stato più elevato lo stato di vergine e non come ora la condizione umana più elevata come una vergogna e un'infamia ma finché questo non esiste l'ideale di ogni fanciulla qualunque sia la sua istruzione sarà pur sempre quello di attrarre a sé il maggior numero possibile di uomini il maggior numero possibile di maschi per avere possibilità di scelta e che una sappia un po' di matematica mentre un'altra sa suonare l'arpa non servirà a cambiare nulla la donna è felice e raggiunge tutto ciò che può desiderare quando riesce ad affascinare un uomo e perciò il problema principale della donna è di saperlo affascinare così è sempre stato e sarà così è per le ragazze nel nostro ambiente e così seguita ad essere per le donne sposate alle ragazze serve per avere la scelta alle donne sposate per dominare il marito l'unica cosa che fa cessare questo o almeno lo soffoca per un certo tempo sono i figli a condizione che la donna non sia un mostro cioè che allatti da sé ma qui vengono di nuovo i medici a mia moglie che voglia allattare e allattò da sé i cinque figli che vennero dopo con la nascita del primo bambino capitò di avere un'indisposizione quei medici che cinicamente la spogliavano e la palpavano dappertutto per la qualcosa dovevo ringraziarli e pagar loro del denaro quei cari medici ritennero che non dovesse allattare e per i primi tempi lei fu privata dell'unico mezzo che poteva liberarla dalla civetteria allattò una baglia cioè approfittammo della povertà del bisogno e dell'ignoranza di una donna l'allontanammo dal suo bambino in favore del nostro e in compenso le mettemmo un diadema con dei galloni ma non si tratta di questo si tratta di quest'altro che proprio in quel periodo in cui era libera dalla gravidanza e dall'allattamento si manifestò in lei con particolare forza quella civetteria femminile che prima si era assopita e in corrispondenza a questo in me si manifestarono con forza altrettanto particolare i tormenti della gelosia che mi dilaniarono ininterrottamente per tutto il tempo della mia vita coniugale che non possono non dilaniare tutti i mariti che vivono con le loro mogli come ci vivevo io cioè in modo immorale per tutto il tempo della mia vita coniugale non smisi mai di provare i tormenti della gelosia ma ci furono dei periodi in cui ne soffersi con particolare asprezza e uno di tali periodi fu quello in cui dopo la nascita del primo bambino i medici le proibirono di allattare ero particolarmente geloso in quel tempo in primo luogo perché mia moglie provava l'inquietudine caratteristica della madre che una gratuita derogazione al corso normale della vita deve suscitare in secondo luogo perché vedendo come aveva rinunciato facilmente al suo obbligo morale di madre avevo concluso giustamente seppur senza rendermene conto che avrebbe rinunciato altrettanto facilmente a quello di sposa tanto più che stava benissimo e nonostante la proibizione di quei cari medici allattò i figli che vennero dopo e li allevò benissimo ma voi non li amate i medici disse io avendo osservato un'espressione particolarmente cattiva nella sua voce ogni volta che appena li nominava qui non si tratta di amore o di disamore essi hanno rovinato la mia vita come hanno rovinato e rovinano la vita a migliaia a centinaia di migliaia di persone io non posso non collegare le conseguenze con la causa capisco che come anche gli avvocati e gli altri hanno voglia di far denari e cederai loro volentieri metà del mio reddito e ciascuno se capisse quello che fanno cederebbe loro volentieri metà dei propri beni purché non si mischiassero nella nostra vita familiare e non si avvicinassero mai molto a noi certo non sono stato a raccogliere notizie in merito ma conosco decine di casi e sono una quantità in cui essi hanno ucciso ora il bambino nel grembo della madre assicurando che la madre non poteva partorire mentre la madre poi partoriva benissimo ora le madri col pretesto di non so che operazioni nessuno sta a contare queste uccisioni come non si stavano a contare le uccisioni dell'inquisizione perché si presupponeva che avvenissero per il bene dell'umanità non si possono enumerare i delitti da loro commessi ma tutti questi delitti non sono nulla in confronto della depravazione morale materialistica che introducono nel mondo in particolar modo attraverso le donne e non parlo di quest'altro fatto che a seguire le loro indicazioni per via dei contagi che ci sono dappertutto e in ogni cosa la gente dovrebbe andare non verso l'unione ma verso la disunione tutti secondo loro dovrebbero stare separati e tenere sempre in bocca una siringa piena di acido fenico del resto hanno scoperto che anche quello non va bene ma anche questo non è nulla il veleno principale sta nella corruzione della gente delle donne in particolare oggi non si può più dire tu vivi malamente cerca di vivere meglio non si può dirlo né a sé né a un altro e se vivi malamente né causa la normalità delle funzioni nervose e simili e bisogna andare da loro che vi ordinano per 35 copecche di medicine da prendere in farmacia e prenderle diventerete ancora peggio e allora ancora medicina e ancora medici una bellissima storia ma non si tratta di questo io non dicevo se non che lei poteva allattare benissimo i figli e che questa gravidanza e questo allattamento dei figli era l'unica cosa che mi liberasse dai tormenti della gelosia non fosse stato per questo sarebbe successo tutto prima i figli salvarono me e lei in otto anni le erano nati cinque figli e tutti tranne il primo li allattò lei e dove sono adesso i vostri figli chiesi io i miei figli domandò a sua volta lui spaventato scusatemi forse è un ricordo penoso per voi no non fa niente i miei figli ne hanno presi mia cognata e suo fratello io ho ceduto loro il mio patrimonio ma non me li hanno dati perché io sono una specie di pazzo torno adesso da una visita che ho fatto loro li ho veduti ma non me li hanno dati altrimenti li educherei in modo che non fossero come i loro genitori invece bisogna che siano precisi a loro ebbene che fare si capisce che non me li daranno e non me li affideranno ma non so se sarai capace di educarli credo di no sono un rudere un infermo una sola cosa c'è in me lo so sì è la fede che ho di sapere quello che tutti non riusciranno a sapere tanto presto sì i miei figli sono vivi e crescono da selvaggi come tutti gli altri intorno a loro li ho veduti li ho veduti tre volte non posso far nulla per loro nulla adesso vado a casa mia nel mezzogiorno la ho una casetta e un piccolo giardino sì non tanto presto gli uomini verranno a sapere quello che so io se ci sia molto ferro e che metalli ci siano nel sole e nelle stelle si può saperlo con facilità ma quello che viene a scoprire la nostra porcaggine è difficile tremendamente difficile voi almeno ascoltate anche di questo vi sono grato ecco voi avete rammentato i figli di nuovo che grosse bugie si dicono sui figli i figli sono un bene di dio i figli sono una gioia ma è tutta menzogna tutto questo è esistito un tempo ma ora non c'è nulla di simile i figli sono un tormento e nient'altro la maggior parte delle madri sentono proprio così e a volte lo dicono proprio così involontariamente interrogate la maggior parte delle madri del nostro ambiente e di persone agiate vi diranno che per la paura che i loro figli possono ammalarsi e morire esse non vogliono avere figli non vogliono allattare se hanno già partorito per non affezionarsi e non soffrire il godimento che procura loro un bambino col fascino suo di quelle manine dei piedini di tutto il corpicino il piacere arrecato da un bambino è minore della sofferenza che esse provano a non voler parlare di una malattia o della perdita del bambino per la sola paura di una possibilità di malattia e di morte dopo aver pesato i vantaggi e gli svantaggi il risultato è che non conviene e perciò non è desiderabile avere figli esse lo dicono con franchezza e coraggio immaginando che in loro questi sentimenti provengano dall'amore per i bambini sentimento buono e lodevole del quale sono orgogliose non si accorgono che con questo ragionamento negano addirittura l'amore e affermano soltanto il proprio egoismo per loro è minore il piacere dato dal fascino ad un bambino che non le sofferenze suscitate dalla paura che avrebbero per lui e perciò non vogliono quel bambino che avrebbero amato esse non sacrificano se stesse per un essere amato ma il futuro essere amato a se stesse è chiaro che questo non è amore ma egoismo eppure il brazzo non si leva a giudicarle per questo egoismo le madri di famiglie agiate quando ci si ricorda di tutto quello che debbono passare per le indisposizioni dei figli di nuovo grazie agli stessi medici nella nostra vita signorile basta che io mi ricordi perfino adesso la vita è lo stato d'animo di mia moglie nei primi tempi quando avevamo tre o quattro figli e lei era tutta assorbita da loro che mi prende lo spavento una nostra vita non esisteva affatto era una specie di eterno pericolo il mettersi in salvo adesso il pericolo che incombeva di nuovo di nuovo gli sforzi disperati e di nuovo la salvezza cioè continuamente la situazione che c'è in una nave che sta naufragando a volte mi sembrava che questo fosse fatto apposta che lei si fingesse inquieta per i figli allo scopo di vincermi tanto era attraente e semplice il modo con cui questo risolveva tutte le questioni in suo favore mi sembrava a volte che tutto ciò che faceva e diceva in quei casi fosse fatto e detto apposta e invece no lei si tormentava sempre tremendamente ed era piena di incertezza per i figli per la loro salute per le loro malattie era una tortura per lei e anche per me e lei non poteva non tormentarsi infatti l'inclinazione per i figli esistenza animale di allattarli cullarli difenderli c'era come vè nella maggioranza delle donne ma non c'era quello che c'è negli animali l'assenza di immaginazione e di raziocinio la gallina non ha paura di quello che può capitare al suo pulcino non conosce tutti i rimedi con i quali gli uomini si immaginano di poter salvare dalle malattie e dalla morte e i figli per essa per la gallina non sono un tormento essa fa per i suoi pulcini quello che le viene naturalmente e gioiosamente fatto i figli sono una gioia per essa quando un pulcino comincia ad ammalarsi le preoccupazioni che se nutre non sono molto definite lo scalda gli dà da mangiare e facendo questo sa di fare tutto quel che deve fare se il pulcino muore essa non si chiede come mai è morto dove se n'è andato sta lì a chiacciare per un po' poi smette e seguita a vivere come prima ma per le nostre povere donne e per mia moglie era diverso a non voler parlare delle malattie del modo di curarle sul modo di educare di far crescere i bambini sentiva e leggeva da ogni parte delle regole infinitamente varie e sempre mutevoli sul dar loro da mangiare così questo no non così non questo ma in quest'altro modo sul vestirli sulle cose da dar loro da bere sul fare il bagno sul metterli a letto sul portarli a spasso sull'aria su tutto questo noi e principalmente lei imparavamo ogni settimana delle regole nuove come se avessero cominciato a partorire bambini dal giorno prima e se non gli avevano dato da mangiare così non gli avevano fatto il bagno così al momento giusto e il bambino si ammalava la conclusione era che i colpevoli eravamo noi non avendo fatto ciò che bisognava fare questo finché c'era la salute e lo stesso era un tormento ma se poi uno si ammalava era finita era un vero inferno si presuppone che le malattie si possano curare e che ci siano una scienza apposita delle persone apposite i medici e che loro sappiano fare non tutti ma i migliori sappiano fare ed ecco che un bambino è malato e bisogna mettere mano su quello là che è il meglio di tutti quello che può salvarlo e allora il bambino è salvo ma se non ti assicuri questo medico o abiti in un altro luogo il bambino è perduto e questo non lo crede esclusivamente lei ma lo credono tutte le donne del suo ambiente e da tutte le parti lei non sente dire altro a Yekaterina Semyonovla ne sono morti due perché non si è chiamato in tempo Ivan Zakharic e a Maria Ivanovna Ivan Zakharic ha salvato la maggiore delle bambine e invece dai Petrov per consiglio del medico se ne sono andati in tempo in albergo e sono rimasti in vita mentre a quelli che non ne sono andati i figli sono morti e quell'altro aveva un bambino debole sono andati a stare nel mezzogiorno per consiglio del medico e hanno salvato il bambino e allora come non tormentarsi e non agitarsi per tutta la vita quando la vita dei figli ai quali lei è animalescamente affezionata dipende dal fatto che sappia in tempo che cosa ne dirà Ivan Zakharic e quello che dirà Ivan Zakharic non lo sa nessuno meno che mai lui stesso perché lui sa molto bene di non sapere nulla e di non poter giocare a nulla e si limita a menare il camperlaia come gli capita purché non si cessi di credere che sa qualcosa certo se lei fosse stata in tutto una bestia non si sarebbe tormentata così e se fosse stata in tutto un essere umano avrebbe avuto la fede in Dio e avrebbe detto e pensato come dicono i credenti Dio l'ha dato Dio l'ha ripreso ma Dio non si sfugge perciò tutta la vita con i figli era per mia moglie e per conseguenza anche per me non una gioia ma un tormento e come non tormentarsi e lei si tormentava sempre capitava che ci eravamo appena calmati dopo qualche scena di gelosia o un semplice litigio e volevamo vivere leggere e pensare un poco ci eravamo appena messi a fare qualcosa che a un tratto arrivava la notizia che Vascia vomitava o Mascia perdeva sangue andando di corpo o Andriusha aveva un'eruzione e si capisce che era finita e la vita non esisteva più dove bisognava correre quali medici andare a chiamare dove isolare il malato e cominciavano i clisteri le temperature le pozioni e i medici non faceva in tempo a finire questo che cominciava qualcos'altro una vita familiare regolare e stabile non esisteva sarà invece come vi ho detto un continuo salvarsi da immaginari ed effettivi pericoli così è adesso nella maggioranza delle famiglie e nella mia famiglia ciò avveniva in un modo particolarmente spiccato mia moglie era tenera dei figli e credula sicché la presenza dei figli non solo non rendeva migliore la nostra vita ma l'avvelenava inoltre i figli erano per noi un nuovo pretesto di discordia da che avevamo figli a quanto più essi crescevano tanto più spesso erano proprio i figli che costituivano un mezzo e un oggetto di discordia non solo un oggetto di discordia ma i figli erano anche uno strumento di lotta , era come se combattessimo tra noi attraverso i figli ognuno di noi aveva il suo figlio preferito che era uno strumento di battaglia io combattevo più che altro attraverso Vascia il maggiore e lei attraverso Liza inoltre quando i figli cominciarono a crescere e i loro caratteri si definirono accadde che diventarono degli alleati che facemmo intervenire ognuno dalla sua parte loro poverini ne soffrivano terribilmente ma noi nella nostra continua guerra avevamo altro da pensare che a loro la bambina era mia partigiana mentre il maggiore dei ragazzi che somigliava a lei ed era il suo preferito mi riusciva spesso odioso e così questa era la nostra vita i nostri rapporti diventavano sempre più ostili e finalmente si arrivò al punto che non era più il disaccordo a produrre l'ostilità ma l'ostilità che produceva il disaccordo qualunque cosa lei dicesse io non ero d'accordo fin da prima e proprio lo stesso capitava a lei dopo tre anni si era concluso spontaneamente da ambo le parti che non potevamo capirci non potevamo andare d'accordo avevamo ormai smesso di tentare di spiegarci a fondo sulle cose più semplici in particolar modo sui figli rimanevamo inalterabilmente ognuno della propria opinione per quel che ricordo adesso le opinioni che difendevo non mi erano affatto così care che io non riuscissi a rinunciarci ma lei era dell'opinione opposta e cedere significava cederle e questo io non potevo farlo lei neppure probabilmente riteneva ad essere sempre in tutto dalla parte della ragione rispetto a me e certo quello che facevo io rispetto a lei era sempre sacrosanto ai miei occhi quando eravamo soli eravamo quasi costretti al silenzio oppure a discorsi come quelli che ne sono certo possono fare gli animali tra loro che ora è è ora di andare a dormire che cosa c'è a pranzo quest'oggi dove dobbiamo andare cosa sta scritto sul giornale bisogna andare a chiamare il medico mascia a mal di gola bastava uscire di un capello da questa cerchia di discorsi ristretta se fino all'inverosimile perché scoppiasse l'irritazione venivano fuori scontri ed espressioni di odio per il caffè la tovaglia la carrozzella per una mossa di winter tutte cose che né per l'uno né per l'altra potevano avere nessuna importanza in me perlomeno ribolliva spesso contro di lei un odio tremendo a volte stavo a vedere come versava il tè muoveva una gamba o avvicinava il cucchaino alla bocca faceva gorgogliare o assorbiva il liquido e la odiavo proprio per quello come per il peggiore degli atti non avevo osservato allora che i periodi di rancore sorgevano in me con assoluta regolarità e uniformità in corrispondenza dei periodi di ciò che noi chiamavamo amore un periodo d'amore un periodo di rancore un energico periodo d'amore un lungo periodo di rancore un più debole manifestarsi dell'amore un breve periodo di rancore allora non capivamo che quell'amore e quel rancore erano il medesimo sentimento animale ma considerato da due lati diversi vivere così sarebbe stato orrendo se avessimo capito la nostra situazione ma noi non la capivamo e non la vedevamo e in questo appunto sta la salvezza e la punizione dell'uomo che quando vive irregolarmente può velarsi lo sguardo per non vedere la miseria della propria situazione così facevamo anche noi lei cercava di distrarsi con le sue occupazioni convulse e sempre frettolose l'andamento della casa l'arredamento gli abiti suoi e dei figli lo studio e la salute dei figli io invece avevo le cose mie le ubriacature l'ufficio la caccia le carte entrambi eravamo sempre occupati sentivamo entrambi che più eravamo occupati più potevamo essere cattivi l'uno con l'altro per te è facile fare le tue smorfie pensavo di lei ma ecco che hai passato tutta la notte a tormentarmi con le tue scene e io ho una seduta e tu te la passi bene non solo pensava ma diceva lei e io sono stata tutta la notte senza dormire per via del bambino queste nuove teorie dell'ipnotismo delle malattie mentali sono tutte una sciocchezza non tanto semplice ma nociva disgustevole di mia moglie Charcot avrebbe detto senza dubbio che era isterica di me avrebbe detto che era una normale e magari si sarebbe messo a curarmi invece qui non c'era niente da curare e così vivevamo dentro una continua nebbia senza vedere la situazione in cui ci trovavamo e se non fosse accaduto ciò che è accaduto e io avessi continuato a vivere così fino alla morte avrei certo creduto morendo di avere trascorso una vita buona non particolarmente buona ma neppure cattiva come capita a tutti non avrei capito l'abisso di infelicità e l'ignobile menzogna in cui mi ero dibattuto invece noi eravamo due galeotti che si odiavano legati dalla stessa catena e si avvelenavano reciprocamente la vita cercando di non volerlo allora non sapevo ancora che i 99 centesimi dei coniugi vivono nel medesimo inferno in cui vivevo io e che non può essere diversamente allora non lo sapevo ancora né degli altri né di me stesso è straordinario quali coincidenze capitino nella vita regolare e perfino in quello irregolare proprio quando i genitori per causa l'uno dell'altro sentono la vita diventare insopportabile si rendono indispensabili anche le condizioni di vita cittadina per l'educazione dei figli ed ecco chi appare la necessità di trasferirsi in città e gli tacque ed è miso un paio di volte quei suoi strani suoni che adesso erano ormai in tutto simile a singhiozzi trattenuti ci avvicinavamo a una stazione che ora è e gli chiese guardai erano le due non siete stanco e gli chiese no ma voi siete stanco mi sento suffocare permettete vado a fare due passi a bere un po' d'acqua e barcollando attraverso il vagone io rimasi solo riandando con la mente a tutto ciò che mi aveva detto ed ero così assorto che non avevo fatto caso come fosse tornato da un'altra porta sì non faccio che lasciarmi distrarre e gli cominciò ho pensato molto molte cose le vedo in un altro modo e tutto questo voglio di dirlo sicché cominciamo a vivere in città in città un uomo può starci cent'anni e non accorgersi che è morto e putrefatto da un pezzo non c'è tempo di venire a capo di se stessi si è sempre occupati gli affari i rapporti sociali la salute le arti la salute dei figli la loro educazione ora bisogna ricevere questi e questi altri andare da questi e da questi altri ora bisogna vedere quella ascoltare quello o quella perché in città in qualsiasi momento c'è una o anche due o tre celebrità che non si possono in nessun modo lasciar perdere ora bisogna curare se stessi questo o quello ora ci sono i professori i ripetitori le istitutrici e la vita è vuota vuotissima così dunque vivevamo e sentivamo meno il dolore della convivenza inoltre nei primi tempi ci fu un'occupazione magnifica l'installazione in una città nuova in un nuovo alloggio e poi l'occupazione dei viaggi dalla città in campagna e dalla campagna in città trascorremmo un inverno e nell'inverno successivo avvenne ancora la circostanza seguente che non poteva essere notata da nessuno e pareva insignificante ma fu tale da produrre tutto quello che è accaduto lei era indisposta e i medici le ordinarono di non avere figli e le insegnarono un espediente a me questo ripugnava mi ciopposi ma lei con spensierata ostinazione insistette e io mi sottomisi l'ultima giustificazione della vita maialesca i figli era tolta e la vita diventò ancora più schifosa al contadino che lavora i figli sono necessari benché gli sia difficile tirarli su ma gli sono necessari e perciò i suoi rapporti coniugali hanno una giustificazione invece a noi persone che abbiamo figli non sono necessari altri figli sono una preoccupazione in più una spesa dei futuri coeredi sono un peso e giustificazioni della vita maialesca per noi non ce n'è nessuna o ci liberiamo artificialmente dai figli oppure guardiamo ai figli come a una sventura alla conseguenza di un'imprudenza e questo è ancora più schifoso non c'è giustificazione ma noi siamo caduti così in basso moralmente che non vediamo neppure la necessità di una giustificazione la maggior parte dell'ambiente colto di oggi si abbandona a questa depravazione senza il minimo rimorso di coscienza non c'è nulla che possa rimordere perché di coscienza nel nostro mondo non ce n'è nessuna tranne se così si può chiamarla la coscienza dell'opinione pubblica e della legge penale e qui né l'una né l'altra sono violate non c'è da vergognarsi di fronte alla società lo fanno tutti anche Maria Paolovna e Ivan Zakaric altrimenti si dovrebbe forse allevare dei poveri diavoli o privarsi della possibilità di vivere tra la gente vergognarsi della legge penale e temerla è ugualmente inutile sono quelle scandalose sgueldrine e mogli di soldati che gettano i figli negli stagni o nei pozzi quelle si capisce bisogna metterle in prigione ma tra noi tutto è fatto a suo tempo e pulitamente così trascorremmo ancora due anni l'espediente di quei mascalzoni di medici cominciava evidentemente ad avere effetto lei si era fatta più piena e più bella nel fisico come l'ultima bellezza dell'estate lei lo sentiva e si occupava di se stessa era venuta una bellezza provocante che rendeva inquiete le persone era in tutta la sua forza di donna trentenne che non partorisce ben grassa ed eccitata il suo aspetto suscitava inquietudine quando passava tra gli uomini attirava su di sé i loro sguardi era come un cavallo ben grasso rimasto fermo per un pezzo al suo attacco al quale avessero tolto il freno della briglia freni non ne aveva nessuno come i 99 centesimi delle nostre donne e io lo sentivo e avevo paura a un tratto egli si alzò e andò a sedersi proprio accanto al finestrino e fissando gli occhi fuori del finestrino rimase a sedere così per circa tre minuti in silenzio poi sospirò profondamente e si sedette di nuovo di fronte a me il suo viso era diventato del tutto diverso gli occhi facevano pena e un sorriso quasi strano gli increspava le labbra sono un poco strano ma terminerò il mio racconto c'è ancora molto tempo non fa ancora giorno sì signore egli cominciò di nuovo accendendo la sigaretta era ingrassata da chi aveva smesso di partorire e quella malattia che era l'eterno stare in pena per i figli aveva cominciato a passarle non era che passasse ma era come se fosse tornata in sé dopo l'ubriachezza e avesse visto che c'era tutto il creato con le sue gioie e lei le aveva dimenticate ma nel quale non sapeva vivere il creato che lei non capiva affatto come fare a non lasciarselo sfuggire il tempo passa e non si può farlo tornare indietro mi figuro che pensasse o piuttosto sentisse a questo modo e del resto non poteva pensare e sentire diversamente l'avevano educata nell'idea che al mondo c'era una sola cosa degna di attenzione l'amore Sara Maritata aveva avuto qualcosa di quest'amore ma non solo assai meno di quanto era promesso di quanto era atteso ma anche molte delusioni e sofferenze e per di più l'inatteso tormento di tutti quei figli questo tormento l'aveva spossata ed ecco che grazie alla premura dei medici era venuta a sapere che si poteva fare a meno dei figli Sara era allegrata l'aveva sperimentato ed era rinata per la sola cosa che sapeva per l'amore ma l'amore con un marito reso brutto dalla gelosia e da cattiveria da ogni genere era ormai tutt'altra cosa cominciò ad apparirle nell'immaginazione un altro amore bello pulito bello nuovo o almeno così pensavo io di lei ed ecco che cominciò a guardarsi intorno con me aspettando qualcosa io lo vidi e non potevo non esserne preoccupato cominciò a capitare spesso che discorrendo come sempre con me attraverso gli altri cioè parlando con estranei ma rivolgendo il discorso a me affermasse arditamente senza pensare affatto che un'ora prima aveva detto l'opposto e l'aveva affermato quasi seriamente che le cure materne erano un inganno che non valeva la pena di sacrificare la propria vita per i figli che esisteva la giovinezza e che ci si poteva godere la vita dei figli si occupava meno non più così disperatamente come prima ma si occupava sempre più di se stessa del proprio aspetto benché lo nascondesse e dei propri piaceri e perfino del proprio perfezionamento sarà rimessa con passione al pianoforte che prima era stato interamente traspurato da questo appunto prese inizio tutto egli si volse di nuovo verso il finestrino con i suoi occhi dallo sguardo stanco ma subito facendo visibilmente uno sforzo su se stesso continuò di nuovo si comparve quell'uomo si confuse un paio di volte e mise con il naso dei suoni particolari vedevo che per lui era un tormento nominare quell'uomo ricordarlo parlarne ma egli fece uno sforzo e come lacerando l'ostacolo che gli dava noia continuò risolutamente era una mala persona ai miei occhi secondo il mio giudizio e non per l'importanza che acquistò nella mia vita ma perché era effettivamente tale del resto il fatto che lui valesse poco non serve che a dimostrare come era irresponsabile lei se non era lui sarebbe stato un altro era una cosa che doveva accadere e gli tacque di nuovo per un po' si signora era un musicista un violinista non un musicista di professione ma un mezzo professionista mezzo uomo di società suo padre è un proprietario terriero vicino di mio padre suo padre è rovinato e i figli erano tre ragazzi si sistemarono tutti soltanto questo che era il minore fu affidato alla sua madrina a Parigi la lo fecero entrare al conservatorio perché aveva attitudine per la musica e ne uscì violinista e suonava nei concerti era un uomo desiderando evidentemente dire qualcosa di male di lui se ne trattenne e disse in fretta insomma non so come vivesse so soltanto che quell'anno era comparso in Russia ed era comparso da me gli occhi umidi a mandorla le labbra rosse sorridenti i baffetti impomatati la pettinatura più recente alla moda il viso ad una bellezza volgare quello che le donne chiamano mica male di complessione debole anche se non mostruosa con il sedere particolarmente sviluppato come ce le hanno le donne come ce le hanno si dice gli ottentotti anche loro si dice sono musicisti portato a forzare per quanto è possibile la confidenza ma attento e sempre pronto a fermarsi alla minima resistenza conservando la dignità esteriore e con quella particolare sfumatura parigina delle scarpe abbottonate e delle cravate a colori vivaci e delle altre cose che si appropriano gli stranieri a Parigi e che per la loro particolare novità fanno sempre effetto sulle donne nei modi un'artificiosa allegria esteriore la consuetudine sapete di parlare di tutto attraverso allusioni e frammenti come se tutto questo lo sapeste lo ricordaste e poteste integrarlo da voi lui appunto con la sua musica fu la causa di tutto perché al processo la cosa fu presentata come se tutto fosse accaduto per gelosia niente affatto cioè non niente affatto ma è così e non è così al processo giunsero proprio alla conclusione che ero un marito ingannato e che avevo ucciso per difendere il mio onore oltraggiato perché così si chiama nel loro linguaggio e per questo mi hanno assolto io al processo cercai di chiarire il significato della cosa ma loro li interpretavano nel senso che volessi riabilitare l'onore di mia moglie i suoi rapporti con quel musicista di qualunque natura siano stati non sono una cosa che importi per me e neppure per lei importa invece quello che vi ho raccontato cioè la mia porcaggine tutto è avvenuto perché tra noi c'era quell'abisso tremendo di cui vi ho parlato tutta quella tremenda tensione del reciproco odio dell'uno per l'altro in cui bastava il primo pretesto che si presentasse per suscitare la crisi negli ultimi tempi i litigi tra noi diventavano qualcosa di pauroso ed erano particolarmente stupefacenti alternati a una passionalità animale anch'essa convulsa se non fosse comparso lui sarebbe comparso un altro se non ci fosse stato il pretesto della gelosia ce ne sarebbe stato un altro insisto che tutti i mariti che vivono come vivevo io devono o darsi alla dissolutezza o separarsi dalla moglie o uccidere se stessi o la propria moglie come ho fatto io se a qualcuno questo non è capitato si tratta di un'eccezione particolarmente rara perché io prima di finire come ho finito sono stato parecchie volte sulla soglia del suicidio e anche lei tentò di avvelenarsi e così è stato e non molto tempo prima di quello vivevamo come in armistizio e non c'era nessuna ragione di violarlo a un tratto si cominciava a parlare di un cane che nell'esposizione ha ricevuto una medaglia dico io lei dice che non è una medaglia ma una menzione onorevole comincia una discussione comincia a saltare da un oggetto all'altro i rimproveri eh ma si sa da un pezzo è sempre così tu hai detto no non l'ho detto allora vuol dire che mentisco si sente che da un momento all'altro può cominciare quel tremendo litigio in cui si ha voglia di uccidere se stessi o lei sai che sta per incominciare e ne hai paura come del fuoco e perciò vorresti trattenerti ma l'ira invade tutto il tuo essere lei è in una situazione simile anzi peggiore da un'altra interpretazione ad ogni tua parola attribuendole un significato falso e ogni tua parola è imbevuta di veleno dovunque sa che posso soffrire di più là appunto mi colpisce più si va avanti peggio è io grido taci o qualcosa del genere lei esce precipitosamente dalla stanza e corre nella camera dei bambini io cerco di trattenerla per finire il discorso e dimostrarle tutto la prendo per un braccio lei finge che le abbia fatto male e grida bambini vostro padre mi picchia io grido non mentire perché non è la prima volta grida lei o qualcosa di simile i bambini si precipitano verso di lei lei li calma io dico non fingere lei dice per te tutto è finzione tu sei capace di uccidere una persona e dire che finge adesso ti ho capito è questo appunto che vuoi oh che tu possa crepare grido io ricordo come mi fecero inorridire queste parole non mi aspettavo affatto che avrei potuto dire delle parole così tremende e volgari e mi stupisco che mi siano uscite fuori grido queste orribili parole e scappo nel mio studio mi siedo e fumo sento che lei esce in camera e si prepara ad andarsene io chiedo dove va lei non risponde ebbene che il diavolo se la porti mi dico tornando nello studio e di nuovo mi corico e fumo mille diversi progetti sul modo di vendicarmi di lei e liberarmene e sul modo di accomodare tutto e fare come se non fosse successo niente mi vengono in testa penso tutto questo e fumo 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 penso di fuggire lontano da lei di nascondermi di partire per l'america arrivo al punto di sognare come mi libererò di lei e come sarà bello come mi unirò a un'altra ottima donna del tutto nuova me ne libererò perché morirà o perché divorzierò ed è scogito il mezzo di farlo vedo che mi confondo che non penso quello che dovrei e per non vedere che non penso quello che dovrei per questo appunto fumo e la vita in casa continua viene l'istitutrice e chiede dov'è madame e quando tornerà il domestico chiede se deve servire il tè arrivo in sala da pranzo i bambini e in particolar modo l'izza la maggiore che già capisce mi guardano con aria interrogativa lei malevola beviamo il tè in silenzio lei continua a non esserci passa tutta la sera e lei non c'è e due sentimenti si alternano nell'animo il rancore contro di lei perché tormenta me e tutti i bambini con la sua assenza che deve pur finire in un suo ritorno e la paura che non torni e attenti a se stessa andrai a prenderla ma dove cercarla da sua sorella ma è sciocco arrivare là a domandare e del resto che Dio la protegga se vuole tormentare che si tormenti lei perché lei non aspetta altro e la prossima volta sarà ancora peggio ma se non fosse da sua sorella e stesse attentando o avesse già attentato a se stessa passano le dieci passano le undici non vado in camera non vado in camera da letto è sciocco star lì colicato ad aspettare se che non mi corico voglio mettermi a fare qualcosa scrivere una lettera leggere ma non posso far nulla sto lì solo nello studio mi tormento mi irrito e rimango in ascolto sono le tre le quattro e lei continua a non esserci verso la mattina mi addormento mi sveglio non c'è tutto in casa va come prima ma tutti sono perplessi e tutti mi guardano con aria di interrogazione e di rimprovero presupponendo che ogni cosa derivi da me in me c'è sempre la stessa lotta fra il rancore perché mi tormenta e l'inquietudine per lei verso le undici del mattino arriva la sorella come sua ambasciatrice e comincia la solita storia lei è in una situazione tremenda su che cosa è mai questo non è mica successo niente io parlo del suo carattere impossibile e dico che non ho fatto nulla ma le cose non possono mica restare così dice sua sorella tutto questo è affar suo e non mio dico io io il primo passo non lo farò se c'è da separarci separiamoci mia cognata se ne va senza aver ottenuto nulla ho detto arditamente che non avrai fatto il primo passo ma quando lei se n'è andata io sono venuto fuori e ho visto i bambini che facevano pietà spaventati come erano ed ero già pronto a fare il primo passo e sarei lieto di farlo ma non so come di nuovo cammino fumo bevo dell'acquavite e del vino a colazione e ottengo quello che inconsciamente desidero non vedo la stupidità la volgarità della mia situazione verso le tre arriva lei incontrandomi non dice niente io immagino che sia rassegnata e comincio a dire che sono stato eccitato dai suoi rimproveri lei è sempre con lo stesso viso severo e tremendamente spossato dice che non possiamo vivere insieme io comincio a dire che il colpevole non sono io è stata lei a farmi perdere il lume degli occhi lei mi guarda severa solenne e poi dice non dire di più te ne pentirai io dico che non posso soffrire le commedie allora lei grida qualcosa che non riesco a capire e se ne fugge in camera sua e la segue il rumore della chiave si è chiusa dentro io busso non viene risposta e mi allontano irritato mezz'ora dopo Lisa accorre in lacrime che c'è è successo qualcosa la mamma non si sente andiamo io scrollo la porta con tutte le mie forze il paletto è mal tirato ed entrambi i battenti si spalancano mi avvicino al letto lei con le sue sottane e le scarpe alte è buttata sul letto sulla tavola c'è una fiala di oppio vuota la facciamo tornare in sé lacrime e infine riconciliazione non riconciliazione nell'animo di ciascuno c'è il medesimo vecchio rancore reciproco con l'aggiunta in più dell'irritazione per il dolore arrecato da quel litigio e da ciascuno messo in conto dell'altro ma bisogna pur mettere fine a tutto questo e la vita prosegue come prima così litigi come quello e peggiori avvenivano di continuo ora una volta alla settimana ora una volta al mese ora ogni giorno ed era sempre la stessa cosa una volta mi ero già fatto dare il passaporto per l'estero il litigio era durato due giorni ma poi fu di nuovo una mezza spiegazione una mezza riconciliazione e rimasi ecco dunque in quali rapporti eravamo quando comparve quell'uomo l'uomo il suo nome truciacevski arrivò a mosca e comparve a casa mia era mattina lo ricevetti una volta ci davamo del tu con delle frasi che stavano in mezzo fra il tu e il voi egli cercò di rimanere al tu ma io intonai apertamente il discorso sul voi e lui si sottomise subito mi era dispiaciuto molto fin dalla prima occhiata ma ha fatto strano una strana forza fatale mi portava a non respingerlo a non allontanarlo ma al contrario a ravvicinarlo infatti che cosa ci sarebbe stato di più semplice che discorrere freddamente con lui e congedarlo senza avergli fatto conoscere mia moglie e invece no come a farlo apposta mi misi a parlare della sua arte e dissi come mi avessero riferito che aveva abbandonato il violino lui disse che al contrario ora suonava più di prima ricordò che anch'io una volta suonavo io dissi che non suonavo più ma che mia moglie suonava bene fatto straordinario il mio comportamento con lui nel primo giorno nella prima ora del nostro incontro furono tali come avrebbero potuto essere solamente dopo tutto ciò che è accaduto c'era qualcosa di convulso nei miei rapporti con lui notavo ogni parola ogni espressione detta da lui o da me attribuendovi importanza lo presentai a mia moglie il discorso cadde subito sulla musica e lui si offrì di suonare con lei mia moglie come sempre in quegli ultimi tempi era molto elegante e attraente bella e in una maniera inquietante lui le era visibilmente piaciuto fin dal primo sguardo inoltre lei era rallegrata per chi avrebbe avuto il piacere di suonare col violino cosa che le piaceva molto tanto da pagare per questo un violinista d'orchestra e sul suo viso sarà espressa questa gioia ma vedendomi capì subito il mio sentimento e mutò la sua espressione e cominciò questo gioco del reciproco inganno io sorridevo piacevolmente facendo finta di essere molto contento lui guardando mia moglie come tutte le persone innamorate guardano le belle donne faceva finta che lo interessasse soltanto l'argomento della conversazione che era proprio quello che certo non lo interessava affatto lei cercava di sembrare indifferente ma evidentemente la mia espressione che lei era ben nota di geloso dal sorriso falso e lo sguardo lascivo dell'ospite la eccitavano vedi che fin dal primo incontro le si erano messi a brillare in particolar modo gli occhi e che probabilmente in conseguenza della mia gelosia tra lui e lei si era stabilita subito come una corrente elettrica che provocava come un'identità d'espressione degli sguardi e dei sorrisi lei arrossiva arrossiva lui lei sorrideva sorrideva lui si parlò di musica di parisi di ogni sorta di cose futili lui si alzò per andarsene e sorridendo col cappello sulla coscia che sussultava stava in piedi e guardava ora lei ora me come aspettando quello che avremmo fatto ricordo quel momento proprio perché in quel momento potevo non invitarlo e allora non sarebbe capitato nulla ma io guardai lui guardai lei che non ti venga neppure in mente che io sia geloso di te le dissi mentalmente o che abbia paura di te dissi mentalmente a lui e lo pregai di portare qualche sera il violino per suonare con mia moglie lei mi guardò con stupore si fece di fiamma e come si fosse spaventata cominciò a dire di no sostenendo che non suonava abbastanza bene questo suo dire di no mi irritava ancora di più e insistai ancora maggiormente ricordo lo strano sentimento con cui guardavo la nuca il collo bianco di lui che faceva contrasto con i capelli neri spartiti dalla scriminatura mentre col suo saltellante passo da uccello usciva da casa nostra non potevo non confessarmi che la presenza di quell'uomo mi tormentava dipendeva da me pensavo fare in modo di non vederlo mai ma fare così voleva dire confessare che lo temevo no non lo temevo sarebbe troppo umiliante mi dicevo e lì in anticamera sapendo che mia moglie si sentiva insistai che venisse quella sera stessa col violino lui me lo promise e andò via alla sera venne col violino e suonarono ma per un pezzo non riuscirono a suonare non c'era la musica di cui avevano bisogno e quella che c'era mia moglie non poteva suonarla senza prepararsi a me la musica piaceva molto e dimostravo la mia simpatia per la loro esecuzione mettendogli a posto il leggio voltando le pagine e qualche cosa suonarono certe melodie senza parole e una suonata di Mozart lui suonava magnificamente aveva al massimo grado quello che si chiama stile inoltre un gusto fine e nobile che non andava affatto d'accordo col suo carattere era molto più abile di mia moglie si intende e l'aiutava e nello stesso tempo le rodava garbatamente il suo modo di suonare si comportava molto bene mia moglie sembrava interessarsi unicamente alla musica ed era molto semplice e naturale io invece benché fingessi di interessarmi alla musica per tutta la sera senza interruzione fui tormentato dalla gelosia fin dal primo momento in cui gli occhi di lui si erano incontrati con quelli di mia moglie avevo visto che la bestia che si annidava in entrambi aveva chiesto di là ad ogni convenzionalità di posizione e di modo si può e aveva risposto oh sì benissimo avevo visto che lui non si aspettava affatto di trovare mia moglie una signora moscovita una donna così attraente e ne era stato molto lieto già che i dubbi sul fatto che lei fosse d'accordo non ne aveva alcuno tutto il problema era che non desse noia l'insopportabile marito se io se io stesso fossi stato puro non l'avrei capito ma come la maggior parte delle persone anch'io avevo pensato a quel modo delle donne mentre non ero ammogliato e perciò leggevo nell'animo di lui come in un libro mi tormentavo particolarmente perché vedevo senza possibilità di dubbio che in lei per me non c'era altro sentimento all'infuoglio di una permanente irritazione solo di lato interrotta da una sensualità ormai abituale mentre quell'uomo sia per la sua esteriore eleganza e novità come soprattutto per la sua indubbia grande attitudine alla musica per il ravvicinamento che sorgeva dal suonare insieme per l'influsso suscitato sulle nature emotive dalla musica e particolarmente dal violino quell'uomo doveva non dico piacerle ma indubbiamente senza la minima esitazione doveva conquistarla schiacciarla strizzarla attorcerla come una corda farne tutto quello che voleva questo non potevo non vederlo e soffriva orribilmente ma malgrado questo forse in seguito a ciò sarà una forza che contro la mia volontà mi costringeva ad essere in particolar modo non solo compito ma affabile con lui non so se lo facessi per mia moglie o per lui per dimostrare che non lo temevo oppure per me per ingannare me stesso ma fin dai miei primi rapporti con lui non riuscivo ad essere semplice per non lasciarmi andare al desiderio di ucciderlo subito dovevo mostrarmi affabile con lui durante la cena gli feci bere dei vini prelibati mi entusiasmai del suo modo di suonare gli parlai con un sorriso particolarmente affabile e lo invitai per la domenica successiva a pranzo e a suonare di nuovo con mia moglie dissi che avrai invitato alcuni conoscenti amatori di musica ad ascoltarlo si finì a questo modo e Pozhnev fortemente agitato cambiò posizione ed emise quel suo suono particolare è strano come agiva su di me la presenza di quell'uomo e gli ricominciò a dire facendo evidentemente uno sforzo per essere calmo ritorno a casa da un'esposizione un giorno o due dopo entro in anticamera e a un tratto sento che qualcosa di pesante come un masso mi piomba sul cuore e non riesco a rendermi conto che cosa sia questo qualcosa era che attraverso l'anticamera avevo notato qualcosa che ricordava lui solamente nel mio studio mi resi conto di quel che era e tornai in anticamera per dare una conferma a me stesso sì non m'ero sbagliato era il suo cappotto sapete un cappotto alla moda tutto ciò che lo riguardava lo osservavo benché non me ne rendessi conto con una straordinaria attenzione domando è proprio così c'è lui vado in sala non attraverso il salotto ma attraverso la camera di studio dei bambini Rizza mia figlia è intenta a un libro e la baglia asciutta è al tavolo con la piccola che fa girare un coperchio la porta che dà in sala è chiusa di là sento un arpeggio uniforme e la voce di lui e di lei mi metto in ascolto ma non riesco a distinguere nulla evidentemente i suoni del pianoforte sono emessi apposta per soffocare le loro parole i loro baci forse Dio mio che cosa si sollevò dentro di me in quel momento mi basta ricordare la belva che allora viveva in me per essere preso dallo spavento il cuore a un tratto mi si strinse si fermò e poi cominciò a martellarmi dentro il sentimento principale come sempre in ogni irritazione era la compassione di me stesso davanti ai bambini davanti alla balia pensavo io dovevo essere terribile perché anche Elisa mi guardava con degli occhi tremendi che cosa devo fare mi chiesi entrare non posso Dio sa che cosa farai ma non posso neppure andarmene la balia mi guarda come se capisse la mia situazione ma non entrare è impossibile mi dissi e aprì rapidamente la porta lui era seduto al pianoforte e faceva quegli arpeggi con le sue lunghe dita bianche arcuate in su lei stava ritta in un angolo del pianoforte curva su della musica aperta fu lei la prima che mi vide e mi sentì e mi gettò uno sguardo sia che si fosse spaventata e avesse finto di non essersi spaventata o che davvero si fosse spaventata non ebbe un fremito non un movimento e soltanto arrossì e anche questo dopo come sono contenta che tu sia venuto noi non abbiamo ancora stabilito che cosa suonare domenica disse lei con un tono col quale non mi avrebbe parlato se fossimo stati soli questo e il fatto che avesse detto noi di sé e di lui mi indignò lo salutai silenziosamente lui mi strinse la mano e subito con un sorriso che mi sembrò addirittura di scherno cominciò a spiegare che aveva portato la musica che serviva a prepararsi per domenica e che adesso tra loro c'era disaccordo su quello che dovevano suonare se qualcosa di più difficile e classico cioè una sonata di Beethoven col violino o dei piccoli pezzi tutto era così semplice e naturale che non si poteva trovare da ridire su nulla eppure io ero sicuro che tutto questo non era vero e stavano mettendosi d'accordo sul modo di ingannarmi una delle condizioni più tormentose per i gelosi e gelosi sono tutti nella nostra vita sociale sono certamente determinate situazioni mondane in cui ha messo il maggiore e più pericoloso contatto tra uomo e donna c'è da rendersi l'udibrio della gente a impedire il contatto ai balli il contatto dei medici con la loro ammalata il contatto nell'occuparsi dell'arte della pittura e soprattutto di musica due persone si occupano insieme dell'arte più nobile la musica per questo è necessario un certo contatto e questo contatto non ha nulla di biasimevole è soltanto uno sciocco marito geloso può vederci qualcosa di poco desiderabile eppure tutti sanno che proprio attraverso queste attività e in particolare attraverso quella musicale avviene la maggior parte degli adulteri nel nostro ambiente io li avevo evidentemente turbati col turbamento che si era manifestato in me per un pezzo non riuscii a dire nulla ero come una bottiglia rovesciata da cui l'acqua da cui l'acqua non esce perché è troppo piena volevo ingiuriarlo scacciarlo ma sentivo che dovevo di nuovo essere gentile e affabile con lui feci appunto così feci finta di approvare tutto e di nuovo per quello strano sentimento che mi aveva costretto a trattarlo con affabilità tanto maggiore quanto più tormentosa mi era la sua presenza gli dissi che mi rimettevo al suo buon gusto e che questo consigliavo anche a lei lui rimase ancora il tempo necessario per cancellare l'impressione spiacevole di quando ero entrato a un tratto nella stanza col viso spaventato ed ero rimasto zitto e se ne andò fingendo che ora avessero stabilito che cosa suonare gli indomani io invece ero pienamente convinto che a paragone di ciò che li occupava la questione di quello che dovevano suonare fosse loro del tutto indifferente lo accompagnai con particolare compitezza fino all'anticamera come non accompagnare un uomo che è venuto col proposito di turbare la calma e rovinare la felicità di un'intera famiglia con particolare affabilità strinsi la sua mano bianca e morbida e per tutto quel giorno non le parlai non potevo la sua vicinanza suscitava in me un tale odio per lei che avevo paura di me stesso a pranzo mi chiese di fronte ai bambini quando sarei partito la settimana dopo dovevo recarmi all'assemblea nel mio circondario dissi quando partivo lei domandò se avevo bisogno di qualcosa per il viaggio io non dissi nulla e sempre in silenzio me ne andai nel mio studio negli ultimi tempi lei non veniva mai nella mia stanza particolarmente in quell'ora sono colicato nello studio e mi sto arrabbiando a un tratto ecco il noto passo e mi viene in capo la strana mostruosa idea che lei come la moglie di Uria voglia nascondere il peccato che ha già commesso e che con questo scopo venga da me in un'ora così insolita possibile che venga da me pensavo sentendo i suoi passi che si avvicinavano se viene da me vuol dire che ho ragione e nell'animo mio si solleva un odio inesprimibile per lei i passi si avvicinano si avvicinano possibile che non vada oltre in sala no la porta ha scricchiolato e sulla porta sta la sua alta bella persona e nel viso e negli occhi ha una timidezza e una cortigeneria che vuol nascondere ma che io vedo e di cui so il significato sono quasi soffocato tanto tempo ho trattenuto il respiro e continuando a guardarla ho preso il porta cigaretta e ho cominciato a fumare via che cos'è questo si viene per stare un po' con te e tu ti metti a fumare fece lei e si sedette vicino a me sul divano appoggiandosi a me io mi feci da parte per non toccarla vedo che sei scontento che io voglio suonare domenica disse lei non sono affatto scontento disse io non lo vedo forse ebbene me ne congratulo con te se lo vedi io invece non vedo nulla se non che ti conduci come una civetta solo che a te ogni obiezione fa piacere mentre a me fa orrore sì se vuoi dire insolenze come un vetturino me ne vado vattene ma sappi che se non hai caro l'onore della famiglia non sei tu che mi sei cara che il diavolo ti porti ma l'onore della famiglia ma come come fila per l'amor di dio fila sia che fingesse di non capire di cosa stavo parlando o che effettivamente non lo capisse il fatto è che si offese e si arrabbiò e non se ne andò ma si fermò in mezzo alla stanza è proprio diventato impossibile cominciò è un carattere tuo che non ci durerebbe un angelo e come sempre cercando di ferirmi nel modo più doloroso possibile mi ricordò come avevo agito con mia sorella era un caso avvenuto con mia sorella quando io avevo perso la pazienza e avevo detto delle villanie a mia sorella lei sapeva che questo mi faceva soffrire e mi aveva colpito in quel punto dopo questo nulla potrà più meravigliarmi disse lei sì offendermi umiliarmi disonorarmi e mettermi tra i colpevoli mi dissi e a un tratto mi prese un rancore così tremendo contro di lei come non l'avevo ancora mai sperimentato per la prima volta ebbi voglia di esprimere fisicamente questo rancore balzai su e mossi verso di lei ma nel momento stesso che balzavo su ricordo che mi resi conto del mio rancore e mi chiesi se fosse bene abbandonarsi a quel sentimento e subito mi risposi che era bene che questo l'avrebbe spaventata e subito invece di oppormi a questo rancore cominciai ad alimentarlo ancora di più in me e a rallegrarmi che divampasse in me sempre maggiormente fila o ti ammazzo gridai avvicinandomi a lei e la presi per un braccio dicendo questo rafforzavo coscientemente l'intonazione di rabbia della mia voce e dovevo essere terribile perché lei rimase così intimidita che non ebbe neppure la forza di andarsene e non faceva che dire vascia che fai che ti è successo vattene rugì ancora più forte non ci sai che tu che puoi mettermi in furore non rispondo di me avendo messo in movimento il mio furore me ne inebriavo avevo voglia di fare ancora qualcosa di straordinario che mostrasse l'alto grado di questo mio furore avevo una voglia tremenda di picchiarla di ucciderla ma sapevo che questo non si poteva fare e perciò per dar campo al mio furore presi dal tavolo un fermacarte gridai ancora una volta vattene e lo scagliai a terra vicino a lei avevo mirato molto esattamente vicino a lei allora lei si mosse per uscire dalla stanza ma si fermò sulla porta e subito mentre lei mi vedeva ancora lo feci perché mi vedesse cominciai a prendere dal tavolo varie cose il candeliere il calamaio e a gettarle per terra continuando a gridare vattene fila non rispondo di me lei se ne andò e io smisi subito un'ora dopo venne da me la balia e disse che mia moglie aveva un attacco isterico ci andai si ingozzava rideva non riusciva a dire nulla e sussultava in tutto il corpo non fingeva ma era malata davvero alla mattina quando dopo la riconciliazione le ebbe confessato che ero geloso di trukacevski non si turbò affatto e scoppiò a ridere nel modo più naturale tanto strana addirittura le sembrava a quel che diceva lei la possibilità di sentire attrazione per un uomo simile è mai possibile che per un uomo simile una donna per bene senta qualcosa a parte il piacere offerto dalla musica ma se vuoi sono pronta a non vederlo più perfino domenica benché tutti siano già invitati scrivigli che non sto bene e sarà finita una cosa sola è spiacevole che qualcuno e soprattutto lui possa pensare che è pericoloso e io sono troppo orgogliosa per permettere che si pensi questo e non mentiva mica credeva a quello che diceva sperava con queste parole di suscitare del disprezzo verso di lui e di offendersene con esso ma non si riuscì tutto era rivolto contro di lei e in particolar modo quella maledetta musica e così finì tutto e la domenica si radunarono gli invitati e loro suonarono di nuovo penso che sia inutile dire che ero molto vanitoso a non essere vanitosi nella nostra solita vita non c'è di che vivere sicché la domenica mi occupai con gusto della preparazione del pranzo e della serata musicale comprai io stesso molte cose per il pranzo e dissi agli invitati di venire verso le sei si radunarono gli invitati e comparve lui in marsina con dei giamelli di brillanti di cattivo gusto si comportava spigliatamente rispondeva in fretta a tutto con un sorriso di consenso e di comprensione sapete con quella particolare espressione per cui tutto ciò che potete fare o dire appare proprio ciò che si aspettava lui tutto quello che c'era in lui di poco per bene tutto ciò lo notavo adesso con particolare piacere perché tutto ciò doveva tranquillizzarmi e mostrare che per mia moglie lui era su un gradino così basso che lei a quel che diceva non poteva abbassarci si ora non mi permettevo più di essere geloso in primo luogo mi ero già spossato abbastanza con quel tormento e avevo bisogno di riposarmi in secondo luogo volevo credere alle assicurazioni di mia moglie e ci credevo ma benché non fossi geloso fui tuttavia poco naturale con lui e con lei e per tutto il tempo del pranzo e nella prima metà della serata finché non fu cominciata la musica continuai a seguire i movimenti i sguardi di entrambi il pranzo fu come tutti i pranzi noioso pieno di ipocrisia la musica cominciò abbastanza presto come ricordo tutti i particolari di quella serata ricordo come lui portò il violino strofinò la custodia tolse la fodera ricamateli da una signora trasse fuori lo strumento e cominciò ad accordarlo ricordo come mia moglie si sedette con un'aria fintamente indifferente sotto la quale vedevo che nascondeva una grande timidezza timidezza soprattutto di fronte alla propria capacità si sedette al pianoforte e cominciarono i soliti arpeggiamenti sul pianoforte il pizzicato del violino il collocamento della musica ricordo poi come si guardarono tra loro e cominciò lui prese i primi accordi gli era venuto un viso serio severo simpatico e con dita attente pizzicò le corde il pianoforte gli rispose e cominciò Potnev si fermò e mise fuori parecchie volte di seguito quei suoi suoni voleva cominciare a parlare ma soffiò col naso e si fermò di nuovo suonavano la sonata Kreuzer di Beethoven e gli continuò Conoscete il primo presto? Lo conoscete? È una cosa terribile quella sonata è appunto quella parte e la musica in genere è una cosa terribile che cosa fa? E come mai fa quello che fa? Dicono che la musica agisca in modo da elevare l'anima sono sciocchezze non è vero agisce agisce terribilmente parlo di me stesso ma neanche affatto in modo da elevare l'anima non agisce in modo da elevare l'anima né da abbassare l'anima ma in modo da eccitare l'anima come dirvi la musica mi costringe a dimenticarmi di me della mia vera situazione mi trasporta in una situazione nuova e che non è la mia sotto l'influsso della musica mi pare di sentire quello che in realtà non provo di capire quello che non capisco di potere quello che non posso io lo spiego dicendo che la musica ha la stessa azione dello sbadiglio del riso non ho sonno ma sbadiglio guardando della gente che sbadiglia e non c'è ragione di ridere ma rido sentendo della gente che ride essa la musica mi trasporta ad un colpo immediatamente nello stato d'animo in cui si trovava colui che ha scritto la musica mi fondo spiritualmente con lui e insieme a lui passo da uno stato d'animo all'altro ma perché lo faccio non lo so perché colui che ha scritto per esempio la sonata Kreuzzer Beethoven lo sapeva bene come mai si trovava in quello stato d'animo quello stato d'animo l'aveva indotto a determinate azioni e perciò quello stato d'animo per lui aveva un senso per me invece non ne ha nessuno ed è perciò che la musica eccita soltanto non conclude magari suonano la marcia iniziale i soldati passano al suono di questa marcia e la musica ha raggiunto il suo scopo hanno suonato un'aria di danza io ho ballato e la musica ha raggiunto il suo scopo magari hanno cantato una messa io mi sono comunicato e anche stavolta la musica ha raggiunto il suo scopo se no non c'è che l'irritazione e quello che bisogna fare in questa irritazione non c'è ed è per questo che la musica a volte ha un'azione così terribile così orrenda in Cina la musica è un affare di stato e così deve essere si può forse ammettere che chiunque vuole ipnotizzi un'altra o molte persone e poi ne faccia quello che vuole e soprattutto che questo ipnotizzatore sia la prima persona immorale che capita se no un mezzo terribile rimane nelle mani di chiunque capiti prendiamo come esempio magari questa sonata a Kreuzer il primo presto si può forse suonarlo in un salotto in mezzo alle signore scollate questo presto suonarlo e poi audire e poi mangiare un gelato e parlare dell'ultimo pettegolezzo queste cose si possono suonare in determinate circostanze importanti ragguardevoli e quando si devono compiere determinati atti importanti conformi a questa musica suonare e fare ciò a cui ci ha predisposto questa musica se no l'evocazione fuori tempo è fuori luogo di un'energia sentimentale che non riesce a manifestarsi in nessun modo non può non avere un'azione deleteria su di me almeno questo pezzo ebbe un'azione tremenda fu come se mi scoprissero dei sentimenti che mi sembravano nuovi delle nuove possibilità che fino allora non conoscevo sì ecco com'è tutto diverso da come pensavo o vivevo prima ecco invece com'è era come se dicesse una voce nell'animo mio che cosa fossero queste novità che avevo imparato a conoscere non potevo rendermene conto ma la coscienza di questo nuovo stato era molto gioiosa tutte quelle persone e nel loro novero anche mia moglie e lui mi apparvero in una luce interamente diversa dopo questo presto essi suonarono ancora il bellissimo ma usuale e non nuovo andante con le sue volgari variazioni e il debolissimo finale poi suonarono ancora richiesta degli invitati sia un'elegia di Ernest sia varie altre cosette ancora tutto questo era bello ma tutto questo non suscitò in me neppure la centesima parte dell'impressione che mi aveva suscitato il primo pezzo tutto questo avveniva ormai sullo sfondo dell'impressione che aveva suscitato quel primo pezzo qui disinvolto e allegro tutta la sera e mia moglie non l'avevo mai vista com'era quella sera quegli occhi scintillanti quella severità e importanza nell'espressione mentre suonava e quell'assoluto liquefarsi in un debole pietoso e beato sorriso dopo che ebbero finito io vedevo tutto ma non vi attribuevo nessun altro significato tranne questo che lei aveva le mie stesse esperienze che anche a lei come a me si scoprivano ed era come se ritornassero alla memoria nuovi sentimenti non mai provati la sera terminò felicemente e tutti se ne andarono sapendo che io due giorni dopo dovevo partire per andare all'assemblea Trukaczewski salutando disse che sperava di poter rinnovare in un altro suo viaggio il piacere avuto quella sera da ciò potevo concludere che non riteneva possibile frequentare la mia casa senza che io ci fossi e questo mi faceva piacere dato che io non sarei tornato prima della sua partenza ne risultava che non si saremmo più visti per la prima volta gli strinsi la mano con vero piacere e lo ringraziai del piacere arrecato lui salutò definitivamente anche mia moglie anche il loro commiato mi parve il più naturale e decente possibile tutto andava benissimo io e mia moglie eravamo entrambi contenti della serata due giorni dopo partii per il mio circondario dopo aver salutato mia moglie con l'umore migliore e più tranquillo nel capoluogo del mio circondario c'era sempre una quantità di lavoro e una vita tutta speciale uno speciale miraggio per due giorni passai fino a dieci ore in ufficio il giorno dopo mi portarono in ufficio una lettera di mia moglie la lessi subito scriveva dei bambini dello zio della balia delle sue compere e tra l'altro come del fatto più normale che era passato da casa Trukaczewski aveva portato la musica promessa e le aveva promesso di venire di nuovo a suonare ma lei aveva detto di no io non ricordavo che lui avesse promesso di portare della musica mi sembrava che allora avesse salutato definitivamente e perciò questo mi colpì in modo spiacevole ma c'era tanto da fare e non c'era tempo di pensare e solo alla sera ho tornato nel mio alloggio rilessi la lettera oltre al fatto che Trukaczewski era venuto ancora una volta senza che ci fossi io tutto il tono della lettera mi parve incomprensibile la belva furiosa della gelosia si era messa a ruggire nella sua tana e voleva balzar fuori ma io avevo paura di questa belva e la rinchiusi al più presto che brutto sentimento questa gelosia mi dissi e che cosa ci può essere di più naturale di quanto lei mi scrive e mi misi a letto e cominciai a pensare agli affari che mi attendevano l'indomani tardavo sempre molto ad addormentarmi al tempo di queste assemblee per la novità del luogo ma questa volta mi addormentai molto presto e come capita sapete a un tratto una scossa elettrica e ti svegli così mi svegliai e mi svegliai col pensiero di lei del mio amore carnale per lei e di Trukacevsi e che tra lui e lei tutto era consumato l'orrore e il rancore mi serrarono il cuore mi misi a farmi la predica che sciocchezze mi dicevo non esiste nessun fondamento non c'è e non c'è stato nulla e come posso umiliare così lei e me supponendo di questi orrori una specie di violinista mercenario noto come persona poco per bene e insieme a lui tutta un tratto una donna onorevole rispettata una madre di famiglia mia moglie che assurdità mi immaginavo da un lato come potrebbe non essere così mi immaginavo dall'altro come potrebbe non essere quella stessa cosa semplice e comprensibile in nome della quale l'ho sposata quella stessa cosa in nome della quale io ho vissuto con lei che unica mi era necessaria in lei e che perciò era necessaria anche ad altri a quel musicista è un uomo non ammogliato sano ricordo come faceva scricchiolare la cartilagine della costoletta e stringeva avidamente tra le labbra rosse il bicchiere col vino ben pasciuto liscio e non solo senza principi ma evidentemente con dei principi che gli dicono di approfittare dei piaceri che si offrono e tra loro il legame della musica la più raffinata lussuria dei sensi che cosa mai può trattenerlo nulla tutto al contrario lo attrae lei ma lei chi è lei è un mistero tale era prima e così è adesso io non la conosco la conosco solamente come animale è un animale nulla può né deve trattenerlo soltanto adesso mi ero ricordato i loro visi come erano quella sera quando dopo la suonata Kreuzzer avevano suonato una cosetta appassionata non so di chi un pezzo sensuale fino all'oscenità come ha potuto partire mi dicevo ricordando i loro visi non era chiaro forse che tra loro tutto s'era concluso quella sera e non si vedeva che già quella sera tra loro non c'era nessuna barriera ma che entrambi e soprattutto lei provavano una certa vergogna dopo ciò che era loro accaduto ricordo il suo debole lamentoso beato sorriso mentre si asciugava il sudore sul viso fattosi rosso quando mi sono avvicinato al pianoforte allora evitavano già di guardarsi e soltanto a cena quando lui le versava dell'acqua si sono guardati sorridendo appena adesso ricordavo con orrore quel loro sguardo da me sorpreso insieme al sorriso appena percettibile sì tutto è consumato mi diceva una voce e subito un'altra voce diceva un'altra cosa e ha preso qualcosa non è possibile diceva quest'altra voce cominciai a sentire l'angoscia di stare colicato al buio accesi la lampada accesi la candela e cominciai a sentire una certa paura in quella piccola stanza dalle tappezzerie gialle accesi una sigaretta e come capita quando ci si aggira in un medesimo cerchio di contraddizioni insolubili che si fuma fumavo una sigaretta dopo l'altra per annebbiarmi la vista e non scorgere le contraddizioni non dormi tutta la notte e alle cinque avendo concluso che non potevo più rimanere in quella tensione e sarei partito subito mi alzai svegliai il custode che mi faceva i servizi e lo mandai a procurarsi dei cavalli alla seduta mandai un biglietto dicendo che ero chiamato a mosca per un affare urgente e che perciò pregavo che mi sostituisse uno dei membri alle otto salì su una vettura da viaggio e partì entrò il capotreno e avendo notato che la nostra candela era finita la spense senza metterne una nuova fuori cominciava a fare giorno Pozniev tacque sospirando profondamente per tutto il tempo che il capotreno rimase nel vagone continuò il suo racconto solamente quando il capotreno fu andato via e nel vagone immerso nella semioscurità non si sentì più che il tintinnare dei cristalli del vagone in moto e il russare uniforme del commesso nella mezzaluce dell'alba ormai non riuscivo a vedere affatto Pozniev si sentiva soltanto la sua voce sempre più agitata e dolente dovevo viaggiare per 35 miglia con i cavalli e 8 ore in treno il viaggio con i cavalli era stupendo era un tempo autunnale gelato con un sole splendente sapete è il tempo in cui i cerchioni si imprimono sulla strada sporca le strade sono lisce la luce è viva e l'aria tonificante si viaggiava bene in vettura quando si fece giorno e partì mi sentii meglio guardando i cavalli i campi la gente che incontravo dimenticavo dove ero diretto a volte mi pareva ad essere semplicemente in viaggio che di quello che mi aveva richiamato non esistesse nulla e mi dava una gioia particolare abbandonarmi così quando poi mi ricordavo dove ero diretto mi dicevo allora si vedrà non ci pensare per di più a mezza strada accadde un fatto che mi trattenne per la strada e mi distrasse ancora di più la vettura si ruppe e si dovette ripararla questa rottura ebbe una grande importanza perché fece sì che io arrivassi a Mosca non alle cinque come calcolavo ma a mezzanotte e a casa verso luna già che non riuscì a prendere il direttissimo e dovetti ormai viaggiare con l'omnibus il cammino fatto per andare a prendere un carro la riparazione il pagamento il tè alla locanda la conversazione con il locandiere tutto questo mi distrasse ancora maggiormente al crepuscolo tutto era pronto e mi misi di nuovo in cammino e di notte si viaggiava ancora meglio che di giorno c'era la luna nuova una piccola gelata e per di più una strada bellissima i cavalli un vetturale allegro e io viaggiavo e me la godevo non pensando quasi affatto a ciò che mi aspettava o me la godevo appunto perché sapevo quel che mi aspettava e prendevo commiato dalle gioie della vita ma questo mio stato d'animo tranquillo la possibilità di soffocare il sentimento terminò col viaggio in vettura non appena fui entrato nel vagone cominciò qualcosa di assolutamente diverso questo percorso di otto ore in treno fu per me una cosa orribile che non dimenticherò in tutta la vita forse perché salito in treno mi immaginavo con vivezza il mio arrivo o perché la ferrovia ha un'azione così eccitante sulle persone ma da quando ero salito in treno non potevo più dominare la mia immaginazione ed essa cominciò a dipingermi senza interruzione con straordinaria vivacità dei quadri che infiammavano la mia gelosia dei quadri che si susseguivano l'uno all'altro ed erano uno più cinico dell'altro e rappresentavano sempre la stessa cosa quello che accadeva là in mia assenza il modo come la m'aveva tradito ardevo di indignazione di rabbia e inoltre di un particolare senso di inebriamento della mia propria umiliazione contemplando quei quadri e non potevo staccarmi né non potevo non guardarli non potevo cancellarli o non suscitarli anzi quanto più contemplavo questi quadri immaginari tanto più credevo alla loro realtà la vivacità con cui mi apparivano questi quadri pareva servisse a dimostrare che quanto avevo immaginato era realtà era come se un diavolo escogitasse e mi suggerisse contro la mia volontà le considerazioni più orribili mi ritornò in mente una vecchia conversazione col fratello di Tukacevsky e mi facevo dilaniare l'anima con una specie di entusiasmo da quella conversazione rifarendola Tukacevsky a mia moglie era una cosa avvenuta molto tempo fa ma me la ricordai una volta ricordo il fratello di Tukacevsky alla domanda se frequentasse i postriboli aveva risposto che una persona per bene non si sarebbe messa ad andare in luoghi dove si potevano prendere delle malattie ed erano anche sporchi e disgustevoli quando si poteva sempre trovare una donna per bene ed ecco che lui suo fratello aveva trovato mia moglie è vero che non è più nella sua prima giovinezza le manca un dente da una parte ed è un po' angrossata pensavo io dal punto di vista di lei ma che fare bisogna approfittare di quello che c'è sì è un favore che le fa a prenderla come sua amante intanto era sicura per lui dal punto di vista della sua preziosa salute no è impossibile mi dicevo e non ridendo non c'è nulla nulla di simile e non esiste neppure alcuna ragione per presupporre qualcosa di simile lei non mi ha forse detto che era perfino umiliante per lei l'idea che io potessi essere geloso di lui sì ma lei non fa che mentire esclamavo e ricominciavo un'altra volta i viaggiatori nel nostro vagone non erano che due una vecchietta col marito entrambi molto poco colloquaci e anche loro scesero a una delle stazioni e io rimaci solo ero come una belva in gabbia ora balzavo su mi avvicinavo al finestrino ora cominciavo a camminare barcollando e cercavo di spingere innanzi il vagone ma il vagone tremava con tutti i suoi sedili e i suoi cristalli proprio come il nostro e Podnischef balzò su fece qualche passo e si sedette di nuovo oh io ho paura dei vagoni ferroviari mi mettono un orrore sì è orribile gli continuò mi dicevo penserò ad altro su mettiamo al padrone della locanda dal quale ho preso il tè ebbene ecco che nell'immaginazione sorse il locandiere dalla lunga barba e il suo nipotino un ragazzo della stessa età del mio Vascia e il mio Vascia vedrà come il musicista bacia sua madre che cosa accadrà nella sua povera anima ma lei che cosa importa lei ama e di nuovo si sollevava la stessa cosa no no su penserò alla visita compiuta all'ospedale sì al malato che ieri reclamava contro il medico e il medico ai baffi come Trukaczewski e come mi ingannava come mi ingannavano entrambi spuderatamente quando lui diceva che partiva e cominciava di nuovo tutto quello a cui pensavo aveva un legame con lui soffrivo orribilmente la sofferenza principale consisteva nell'ignoranza nei dubbi nello sdoppiamento nell'incertezza se era proprio lei che bisognava amare o odiare le sofferenze erano così forti che ricordo mi era venuta l'idea che mi era piaciuta molto di scendere sulla strada ferrata coricarmi sulle rotaie per farmi passare sopra il treno e finirla allora almeno non ci sarebbe stato più da dubitare l'unica cosa che mi impediva di farlo era la pietà per me stesso e subito portava con sé un immediato odio per lei per lui invece provavo uno strano sentimento di odio che era coscienza del mio annientamento e della sua vittoria ma per lei provavo un odio tremendo è impossibile uccidersi e lasciarla bisogna che lei soffra almeno un po' che capisca almeno che io ho sofferto mi dicevo scendevo a tutte le stazioni per distrarmi in una stazione vidi che il caffè si beveva e subito bevi io pure dell'acquavite accanto a me stava un ebreo e anche lui beveva e mi dice a parlare e io pur di non rimanere solo nel mio vagone andai con lui nel suo vagone di terza classe sporco pieno di fumo insaccherato di gusci di semi la mi sedetti accanto a lui e mi pare che mi raccontasse molte storielle io lo ascoltavo ma non riuscivo a capire quello che diceva perché continuavo a pensare alle mie cose lui se ne accorse e cominciò a pretendere ad essere ascoltato con attenzione allora io mi alzai e me ne andai di nuovo nel mio vagone bisogna riflettere mi dicevo se è vero quello che penso e se ho ragione di tormentarmi mi sedetti col desiderio di riflettere tranquillamente ma subito invece della tranquilla riflessione comincia di nuovo la stessa cosa invece di ragionamenti quadri e immagini quante volte mi sono tormentato così mi dicevo ricordavo i precedenti accessi di gelosia simili a quello e poi tutto è finito e niente così anche ora forse e anzi certamente la troverò tranquilla e addormentata si risveglierà si rallegrerà nel vedermi e dalle sue parole dal suo sguardo sentirò che non è successo nulla e che queste sono tutte sciocchezze oh come sarebbe bello questo ma no è accaduto troppo spesso e ora non accadrà mi diceva una voce e ricominciò di nuovo sì ecco sì ecco dove stava la pena non in un ospedale di sifilitici avrei condotto un giovane per togliergli l'inclinazione per le donne ma nella mia anima perché vedesse i diavoli che la dilaneavano l'orribile infatti era che io mi riconoscevo un indubitabile pieno diritto sul suo corpo come se fosse stato il mio corpo e nello stesso tempo sentivo che possederlo questo corpo non potevo che non era mio e che lei poteva disporne come voleva e voleva disporne diversamente da come volevo io ma io non potevo fare nulla né a lui né a lei lui come vanca il credenziare davanti alla forca avrebbe cantato di come erano state baciate le labbra zuccherine e così via e la vittoria sarebbe stata sua a lei poi ancora meno avrei potuto fare qualcosa se non l'aveva fatto e voleva farlo e io sapevo che voleva farlo era ancora peggio sarebbe stato perfino meglio che l'avesse fatto perché io lo sapessi perché non ci fosse incertezza non avrei potuto dire che cosa desideravo desideravo che lei non desiderasse quello che doveva desiderare era pazzia piena alla penultima stazione quando venne il capotreno a ritirare i biglietti io dopo aver raccolto le mie cose uscii sulla piattaforma e la consapevolezza che era prossima imminente la soluzione accrebbe ancora la mia agitazione cominciai a sentir freddo e le macelle cominciarono a tremarmi in modo tale che battevo i denti uscii macchinalmente dalla stazione insieme alla folla presi una vettura in piazza vi salì e ci mettemmo in moto mi facevo portare osservando i rali passanti e i portinai e le ombre che i fanali e la mia carrozzella gettavano ora avanti ora indietro senza pensare a nulla dopo aver fatto un mezzo miglio cominciai a sentire freddo ai piedi e pensai che in treno mi ero tolto le calze e le avevo messe nella valigetta dove era la valigetta? era lì? sì e dove era la cesta? mi ricordai che avevo interamente dimenticato il bagaglio ma ricordatomene e tratto fuori lo scontrino conclusi che non valeva la pena di tornare a prenderlo e prosegui per quanto abbia cercato di ricordare adesso non riesco in nessun modo a ricordare il mio stato d'animo di allora che cosa pensavo? che cosa desideravo? non so nulla non so nulla ricordo soltanto che avevo la consapevolezza che nella mia vita stava preparandosi qualcosa di tremendo e di molto importante se questa cosa importante sia accaduta perché pensavo così o perché lo presentivo non so può anche essere che dopo quello che è successo tutti i momenti precedenti abbiano assunto una tinta cupa nel mio ricordo ero arrivato all'ingresso era quasi luna alcuni vetturini erano fermi davanti all'ingresso in attesa di clienti per via delle finestre illuminate le finestre illuminate erano nel nostro alloggio in sala in salotto senza rendermi conto della ragione per cui le nostre finestre erano ancora illuminate così tardi sempre nello stesso stato d'animo di attesa di qualcosa di tremendo salì le scale e suonai il domestico il buon Yegor premuroso e molto sciocco mi aprì la prima cosa che mi sentò agli occhi in anticamera fu all'attaccapanni accanto agli indumenti il cappotto avrei dovuto stupirmi ma non mi stupì perché me l'aspettavo proprio così mi dissi quando ebi chiesto a Yegor chi era e lui mi abbia fatto il nome di Trukaczewski chiesi se c'era ancora qualcun altro lui disse no signore nessuno ricordo che mi rispose questo con l'intonazione di volermi rallegrare dissipando il dubbio che ci fosse qualcun altro bene bene sembrava che mi dicessi e i bambini grazie a Dio stanno bene dormono da un pezzo non riuscivo ad emettere il respiro e non riuscivo a fermare le mie mascelle che tremavano sì voleva dire che non era come pensavo io era prima che pensavo che ci fosse una sventura e risultava che tutto andava bene come al solito ecco che invece adesso le cose non andavano come al solito ma c'era tutto quello che mi ero immaginato e che pensavo di essermi soltanto immaginato mentre ecco che era tutto realtà ecco tutto stavo quasi per scoppiare in singhiozzi ma il diavolo subito suggerì piangi fa il sentimentale e loro si separeranno tranquillamente prove non ce ne saranno e tu dubiterai e ti tormenterai sempre e subito quei sentimentalismi su me stesso scomparvero e si manifestò un sentimento nuovo non ci crederete un sentimento di gioia perché adesso il mio tormento sarebbe finito perché adesso avrei potuto punirla avrei potuto liberarmi di lei avrei potuto dare libero corso al mio rancore e di odia di libero corso al mio rancore e diventai una belva non importa non importa disse a Yegor che voleva andare in salotto piuttosto ecco qua corri a prendere una vettura e va ecco lo scontrino a farti consegnare la roba muoviti lui si incamminò per il corridoio per andare a prendere il suo palto temendo che li facesse scappare lo accompagnai fino alla sua cameretta e aspettai finché si fu vestito in salotto a una camera di distanza si sentiva un rumore di conversazione e un suono di coltelli e di piatti e si mangiavano e non avevano sentito il campanello purché non vengono fuori adesso pensavo io Yegor mi se il paltoio uscì lo accompagnai e gli chiusi la porta dietro e cominciai a sentirmi angosciato quando ebbi la sensazione che ero rimasto solo e che dovevo agire subito come non sapevo ancora sapevo solamente che adesso tutto era finito che non ci potevano essere dubbi sulla sua colpevolezza e che stavo per punirla e dare una conclusione ai miei rapporti con lei prima avevo ancora delle esitazioni e mi dicevo ma forse non è vero forse mi sbaglio questo adesso non c'era più tutto era irrequivocabilmente deciso inascosto da me sta sola di notte con lui è ormai un dimenticare interamente ogni cosa o ancora peggio c'è apposta una tale temerarietà un tale coraggio nel delitto perché questa temerarietà sia un segno di innocenza tutto è chiaro non ci sono dubbi io temevo una sola cosa che scappassero via che scogitassero ancora un nuovo inganno e così mi privassero dell'evidenza delle prove della possibilità di dimostrare la cosa e allo scopo di coglierli più facilmente andai in punta di piedi in sala dove stavano non attraverso il salotto ma attraverso il corridoio e le camere dei bambini nella prima camera i ragazzi dormivano nella seconda la balia si mosse stava per svegliarsi e io mi immaginai tutto quello che avrebbe pensato quando avesse saputo tutto e una tale pietà per me stesso mi prese a quest'idea che non potei trattenermi dalle lacrime e per non svegliare i bambini corsi in punta di piedi nel corridoio e nel mio studio mi lasciai cadere nel mio divano e scoppiai in singhiozzi io sono una persona onesta sono figlio dei miei genitori e tutta la vita ho sognato la felicità nella vita di famiglia sono un uomo che non l'ha mai tradita ed ecco qua ha cinque figli e abbraccia un musicista perché ha le labbra rosse non è un essere umano è una cagna una schifosa cagna accanto alla camera dei bambini per i quali ha finto amore tutta la vita e scrivermi quello che mi ha scritto e gettarsi al collo di un uomo così spudolatamente ma che ne so io forse è sempre stato così forse da un pezzo ha procreato con dei camerieri i figli che vengono considerati i miei e se fosse arrivato domani lei con la sua pettinatura col suo vitino ai pigri e graziosi movimenti vedi tutto il suo attraente e odiato viso mi sarebbe venuta incontro e questa belva della gelosia mi sarebbe rimasta per sempre nel cuore a dilaniarlo e che penserà la balia jegor e la povera lizosca lei capiva già qualche cosa e questa spudolatezza e questa menzogna e questa animalesca sensualità che io conosco così bene mi dicevo volevo alzarmi ma non ci riuscivo il cuore che mi batteva talmente che non riusciva a stare in piedi sì morirò di un colpo lei mi uccide di questo appuntamento ha bisogno e perché dovrebbe uccidere ma no le sarebbe stato troppo utile e questo piacere non glielo procuro sì io sono qui e loro sono là che manzano e ridono e e perché non l'ho strangolata allora mi dissi ricordando il momento in cui una settimana prima l'avevo scacciata dal mio studio e poi mi ero messo a rompere la roba mi ritornò alla memoria con vivezza lo stato d'animo in cui ero allora non soltanto mi tornò alla memoria ma provai il medesimo bisogno di rompere di distruggere che provavo allora ricordo come mi venne il desiderio di agire e ogni considerazione tranne quelle che erano necessarie per l'azione mi uscì dal capo ero entrato nello stato d'animo della belva e dell'uomo che è sotto l'influsso dell'eccitazione fisica sotto l'influsso del pericolo quando l'uomo agisce con esattezza senza fretta ma anche senza perdere un minuto e sempre unicamente a quel solo determinato fine la prima cosa che feci fu di togliermi le scarpe rimasto con le calze mi avvicinai al muro sopra il divano dove tenevo appesi dei fucili e dei pugnali e presi un pugnale damascato ricurvo che non era mai stato usato ed era molto tagliente lo tirai fuori dal fodero il fodero ricordo cadde dietro il divano e ricordo che mi dissi poi bisogna ritrovarlo se no si perde quindi mi tolci il palto che avevo sempre tenuto indosso e con passo leggero andai là senza scarpe e avvicinatomi pian piano tutto a un tratto aprì la porta ricordo l'espressione dei loro visi ricordo quell'espressione perché quell'espressione mi dava una gioia tormentosa era un'espressione di terrore questo appunto desideravo io non dimenticherò mai l'espressione di disperato terrore che comparve nel primo istante su tutte e due i loro volti quando mi videro lui mi pare che fosse seduto a tavola ma avendomi veduto e sentito saltò in piedi e si fermò con le spalle rivolte a un armadio sul suo viso non c'era che un'espressione molto poco dubbia di terrore anche sul viso di lei c'era un'espressione di terrore ma insieme a esso c'era anche qualcos'altro se non ci fosse stato altro che l'espressione di terrore forse non sarebbe accaduto quello che è accaduto ma nell'espressione del viso di lei c'era nel primo istante o almeno così mi parve anche il dolore il disappunto che avessero interrotto il suo trasporto d'amore la sua felicità con lui era come se lei non avesse bisogno d'altro se non che non le impedissero di essere felice adesso l'una e l'altra espressione non rimasero che un attimo sui loro visi l'espressione di terrore sul viso di lui fu subito sostituita da un'espressione interrogativa si poteva mentire o no se si poteva mentire bisognava cominciare se non si poteva sarebbe cominciato qualcos'altro ancora e lui la guardò interrogativamente col viso di lei l'espressione di stizza e di dolore era stata sostituita a quel che mi era parso da un'espressione di preoccupazione per lui quando lei lo aveva guardato per un attimo mi fermai sulla porta tenendo il pugnale dietro la schiena in quell'attimo lui sorrise e con un tono indifferente fino al ridicolo cominciò e noi ecco facevamo musica non ti aspettavo proprio osservò lei contemporaneamente sottomettendosi al tono di lui né l'uno né l'altra finì il discorso il medesimo furore che sarà impadronito di me una settimana prima lo provavo pure adesso provai di nuovo quel bisogno di distruzione di violenza e di entusiastico furore e mi ci abbandonai entrambi non finirono il discorso cominciò quell'altra cosa di cui lui aveva paura e che infrangeva ad un tratto tutto ciò che essi stavano dicendo mi gettai verso di lei nascondendo ancora sempre il pugnale perché lui non mi impedisse di colpirla al fianco sotto la mammella avevo scelto quel punto fin dal principio nel momento in cui mi gettai verso di lei lui vide e cosa che non mi aspettavo affatto da lui mi prese per un braccio e gridò ritornate in voi che fate gente io liberai il braccio e mi gettai senza far parola verso di lui i suoi occhi si incontrarono con i miei lui impallidia un tratto come un cencio fino alle labbra i suoi occhi ebbero un lampo particolare e cosa che pure non mi aspettavo affatto scivolò sotto il pianoforte verso la porta io stavo precipitandomi dietro di lui ma al mio braccio sinistro si era attaccato un peso era lei io mi slanciai lei mi si attaccò ancora più fortemente e non mi lasciava andare questo impedimento inaspettato il peso e il suo contatto per me disgustoso mi infiammarono ancora di più sentivo l'essere assolutamente frenetico e dovevo essere terribile e ne ero lieto sollevai il braccio sinistro con tutta la mia forza e col gomito la colpii proprio in viso lei diede un grido e lascia andare il mio braccio io volevo correre dietro a lui ma mi ricordai che sarebbe stato ridicolo correre appresso senza scarpe all'amante della propria moglie e io non volevo essere ridicolo ma volevo essere terribile nonostante il tremendo furore in cui ero avevo sempre presente l'impressione che suscitavo negli altri ed ero perfino guidato in parte da quell'impressione mi volsi verso di lei era caduta su una sedia a sdraio e con le mani sugli occhi da me percossi mi guardava nel suo viso c'erano paura e odio per me il suo nemico come ce l'ha il topo quando si solleva la trappola in cui è rimasto preso io almeno non vedevo nulla in lei tranne la paura e l'odio per me che dovevano essere suscitati dall'amore per un altro ma forse mi sarei ancora trattenuto e non avrei fatto quello che ho fatto se lei avesse taciuto ma lei a un tratto cominciò a parlare e ad afferrare con la mano la mia mano che teneva il pugnale ritorna in te che fai che cosa ti capita non c'è nulla 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 lo giuro io avrei aspettato ancora ma queste sue ultime parole che mi fecero concludere il contrario cioè che tutto era accaduto volevano una risposta e la risposta doveva essere conforme allo stato d'animo in cui mi ero messo che andava sempre crescendo e doveva continuare a svilupparsi allo stesso modo anche la frenesia ha una sua legge non mentira schifosa bildai e con la mano sinistra la presi per un braccio ma lei si svincolò allora io pur sempre senza lasciare andare il pugnale con la mano sinistra la ferrai per la gola la rovesciai supina e la stavo strangolando com'era ruvido quel collo lei si afferrò con entrambe le mani alle mie mani strappandosele via dalla gola e io come se non avesse aspettato altro la colpì con tutta la mia forza al fianco sinistro sotto il costato col pugnale quando la gente dice che in un accesso di furore non ci si ricorda di quello che si fa è una sciocchezza non è vero niente io ricordavo tutto e neppure per un attimo cessai di ricordare quanto più forte accendevo in me stesso il fuoco del mio furore tanto più chiara si accendeva in me la luce della coscienza con la quale non potevo non vedere tutto ciò che facevo non posso dire che sapessi prima quello che stavo per fare ma nell'attimo in cui lo facevo e credo perfino un po' prima sapevo quello che avrei fatto quasi perché ci fosse la possibilità di pentirsi perché io mi potessi dire che mi potevo fermare sapevo di colpire sotto il costato e che il pugnale sarebbe penetrato nel momento in cui lo facevo sapevo di fare qualcosa di orribile qualcosa che non avrei mai fatto e che avrebbe avuto conseguenze orribili ma questa coscienza balenò come un lampo e dopo la coscienza venne subito l'atto dell'atto fui conscio in modo straordinariamente chiaro sentii e ricordo la resistenza opposta per un attimo dal busto e da qualcosa ancora e poi l'immersione del coltello nella parte molle lei si aggrappò con le mani al pugnale se le tagliò ma non riuscì a trattenerlo poi in prigione dopo che si fu prodotto in me un rivolgimento morale pensai a lungo a quel momento ricordai quello che potevo e ci pensai su ricordo per un attimo soltanto per l'attimo precedente al fatto la tremenda coscienza di aver ucciso e ucciso una donna mia moglie l'orrore di questa coscienza lo ricordo e perciò ne concludo e perfino mi rammento confusamente che con ficcato il pugnale lo trassi fuori subito desiderando riparare quanto avevo fatto e fermarlo per un secondo stetti lì immobile aspettando quello che sarebbe avvenuto la cosa si poteva rimediare o no lei si alzò bruscamente in piedi e gridò valia mi ha ucciso la valia che aveva sentito del rumore era sulla porta io continuavo a star lì aspettando incredulo ma in quel momento di sotto al suo busto sprizzò il sangue soltanto allora capii che rimediare non si poteva e conclusi subito che non si doveva neppure che proprio questo io volevo e proprio questo dovevo fare aspettai finché lei non cadde e la valia non accorse verso di lei gridando padri santi e soltanto allora zettai lontano il pugnale e me ne andai dalla stanza non bisogna agitarsi bisogna che io sappia quello che faccio mi dissi senza guardare lei nella valia la valia gridava chiamava la cameriera io passai dal corridoio e dopo aver mandato là la cameriera andai in camera mia che cos'è che bisogna fare adesso mi chiesi e capii subito che cosa era entrato nel mio studio mi avvicinai subito al muro ne staccai un revolver lo esaminai era carico e lo misi sulla tavola poi tirai su il fodero da dietro il divano e mi sedetti sul divano sedetti a lungo così non pensavo a nulla non rievocavo nulla sentii che là si davano da fare sentii come giunse qualcuno poi ancora qualcuno poi sentii e vidi come Iegor portò nello studio la cesta che era andato a prendere come se questo servisse a qualcuno hai sentito quello che è successo disse io di al portinaio che avvertano la polizia lui non disse nulla e se ne andò io mi alzai chiusi la porta e trassi fuori una sigaretta e i fiammiferi e mi mise a fumare non avevo finito di fumare la sigaretta che mi aveva appreso e vinto il sonno dormii probabilmente un paio d'ore ricordo che vidi in sogno che con lei eravamo in amicizia ci eravamo riconciliati ma ci stavamo riconciliando e qualcosa ci dava noia ma eravamo amici mi svegliò un picchio alla porta e la polizia pensai io svegliandomi mi pare infatti di aver ucciso ma forse è lei e non è accaduto nulla picchiarono ancora alla porta io non risposi nulla e stavo risolvendo il problema se quello era accaduto o no sì era accaduto ricordai la resistenza del busto e l'immersione del coltello e un brivido mi percorse la schiena sì è accaduto sì adesso anche me mi dissi ma io dicevo questo e sapevo che non mi sarai ucciso tuttavia mi alzai e presi di nuovo in mano il revolver ma fatto strano ricordo come prima io sia stato molte volte vicino al suicidio come quel giorno perfino in ferrovia la cosa mi sembrasse facile facile proprio perché pensavo che colpo le avrei dato così adesso non potevo in nessun modo non solo uccidermi ma neppure pensarsi perché lo farai mi domandai e non venne nessuna risposta picchiarono ancora una volta alla porta sì prima bisogna sapere chi è che picchia farò ancora in tempo le posi il revolvere lo copri con un giornale mi avvicinai alla porta e levai il paletto era la sorella di mia moglie una buona e sciocca vedova vasia che cose mai disse e le lacrime che aveva sempre pronte cominciarono a scorrere che cosa serve chiese io villanamente vedevo che non occorreva affatto e non c'era ragione ad essere villano con lei ma non sapevo trovare nessun altro tono vasia sta morendo l'ha detto Ivan Zakaric Ivan Zakaric era il medico il suo medico e consigliere perché lui è qui chiese io e tutta l'animurgità verso di lei si sollevò di nuovo ebbene e allora vasia va da lei ah che orrore disse devo andare da lei fu una domanda che mi rivolsi e risposi subito che bisognava andare da lei che probabilmente usava sempre fare così e quando un marito aveva ucciso la moglie come me doveva assolutamente andare da lei se usa così bisogna andare mi dissi sì se sarà necessario farò sempre in tempo pensai a proposito della mia intenzione di sperarmi e andai da lei adesso ci saranno delle frasi delle smorfie ma io non mi lascerò piegare aspetta disse a sua sorella è sciocco andare senza scarpe lascia che mi infili almeno le pantofole ed è un fatto curioso di nuovo quando uscì dalla stanza e mi incamminai per le stanze consuete di nuovo si manifestò in me la speranza che nulla fosse accaduto ma l'odore di quella porcheria dei medici di cloroformio di acido fenico mi colpì no tutto era accaduto passando per il corridoio accanto alle camere dei bambini vivi l'isanka mi guardava con occhi spaventati mi parli perfino che fossero lì tutti e cinque e mi guardassero mi avvicinai alla porta e la cameriera mi apri dal di dentro e uscì la prima cosa che mi saltò agli occhi fu il suo vestito grigio chiaro su una seggiola tutto nero di sangue sul nostro letto e due piazze anzi dalla mia parte la cui era più facile accostarsi era colicata lei con le ginocchia sollevate era colicata molto in pendenza soltanto su dei cuscini in un copribusto sbottonato sul punto della ferita era stato messo qualcosa nella stanza c'era uno spiacevolo odore di iodoformio prima e più di tutti mi colpì il suo viso e infiato e fatto turchino dalle lividure che erano anche su una parte del naso e sotto gli occhi era la conseguenza della mia gomitata quando aveva voluto trattenermi bellezza non ce n'era affatto e invece mi apparve qualcosa di disgustoso mi fermai sulla soglia avvicinati avvicinati a lei mi diceva la sorella sì si vede che vuole mostrare il suo pentimento pensai io la perdonerai? sì sta morendo e si può perdonarle pensavo io cercando ad essere generoso le giunsi proprio a fianco lei sollevò su di me con fatica i suoi occhi uno dei quali era ammaccato e a fatica articolò con delle pause hai raggiunto il tuo scopo mi hai uccisa e sul suo viso attraverso le sofferenze fisiche e perfino attraverso la vicinanza alla morte ti espresse il medesimo vecchio odio freddo animale che io conoscevo i bambini però non te li lascio li prenderà lei la sorella di quello invece che per me era la cosa principale la sua colpa il tradimento era come se ritenesse che non valeva la pena di parlarne sì ammira quel che hai fatto disse lei guardando la porta e si mise a singhiozzare sulla porta stava la sorella con i bambini sì ecco che cosa hai fatto io guardai i bambini il suo viso tumefatto pieno di lividure e per la prima volta mi dimenticai di me stesso dai miei diritti del mio orgoglio per la prima volta vidi in lei un essere umano e così insignificante mi apparve tutto ciò che mi offendeva tutta la mia gelosia e così importante ciò che avevo fatto che volevo riclinare il viso sulle sue mani e dire perdona ma non osavo lei taceva con gli occhi chiusi evidentemente senza avere la forza di parlare oltre poi il suo viso sfigurato si mise a tremare si corrugò mi respinse debolmente perché è accaduto tutto questo perdonami sono tutte sciocchezze pur di non morire esclamò lei sollevandosi e i suoi occhi scintillanti di febbre si fissarono su di me si hai raggiunto il tuo scopo ti odio gridò evidentemente delirando spaventata di qualcosa su ammazza ammazza io non ho paura tutti tutti però anche lui non è andato il delirio continuò per tutto il tempo non riconosceva nessuno quello stesso giorno verso mezzogiorno morì io ancora prima alle otto ero stato portato in sezione di là in carcere e lì negli undici mesi che ci stetti in attesa del processo ho meditato su di me e sul mio passato e l'ho capito cominciai a capire dopo due giorni dopo due giorni mi condussero laggiù egli voleva dire qualcosa e non avendo la forza di trattenere i singhiozzi si fermò raccogliendo le proprie forze e continuò cominciai a capire solamente quando la vidi nella bara ebbe un singhiozzo ma continuò subito frettolosamente solamente quando vidi il suo viso morto capii tutto quello che avevo fatto capii che io io l'avevo uccisa che per causa mia era accaduto che lei prima era viva si muoveva era calda mentre adesso era diventata immobile cerea fredda e che a questo non si poteva rimediare mai in nessun luogo in nessun modo chi non l'ha passato non può capire ah 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 egli esclamò varie volte e tacque sedemmo a lungo in silenzio lui si inghiozzava e tremava in silenzio davanti a me alla stazione dovevo scendere era le otto del mattino mi avvicinai a lui per salutarlo dormisse o facesse finta certo è che non si muoveva lo toccai con una mano si scoperse e si vedeva che non stava dormendo addio dissi io dandogli la mano e gli mi diede la mano e sorriso appena ma così pietosamente che mi venne da piangere si perdonatemi fece ripetendo la stessa parola con cui aveva concluso anche tutto il suo racconto e rispettando che rispettando Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.